Buongiorno a tutti quanti, io sono Michela Finizio, giornalista del Sole 24 Ore, intanto saluto tutti i relatori e tutte le persone collegate, vi ringrazio di essere qui oggi e ringrazio anche Cittadinanza Attiva per avermi dato l'opportunità di seguire questa interessante giornata, io appunto oggi faremo il punto su tutta quella che è la questione legata all'emergenza idrica, lo abbiamo scritto anche sul Sole 24 Ore di ieri dove abbiamo potuto anticipare alcuni dati del diciannovesimo rapporto sull'acqua di Cittadinanza Attiva che è rappresentato oggi, l'acqua è sempre più preziosa, preziosa non solo come risorsa che facciamo fatica sempre di più a trattenere e ad avere sul nostro territorio italiano ma anche in bolletta e infatti vedremo quanto diventa più cara anche per i consumatori. A questo punto lascio subito la parola ad Annalisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanza Attiva per raccontarci quello che presenteremo oggi e anche nell'ambito di quale progetto viene insomma inserito la presentazione di questo diciannovesimo rapporto sull'acqua. Grazie innanzitutto. Grazie a te Michele e grazie a tutti voi per essere qui. Io non voglio anticipare nulla di quello che verrà detto poi nel corso dell'evento a proposito del rapporto ma dire che per Cittadinanza Attiva comunque è un importante traguardo anche se è un traguardo da replicare diciamo essere riusciti a realizzare per la diciannovesima volta un rapporto sul servizio idrico e aver posto l'attenzione su una risorsa preziosa come l'acqua ma anche sul livello anche di diseguaglianze di differenze che esistono nel nostro paese nell'erogazione di questa risorsa e le ricadute di queste differenze sui cittadini del nostro paese. Infatti il rapporto che ha proprio lo scopo di fotografare queste differenze che sono differenze che anche nel corso di anni vicini da un anno all'altro addirittura si consolidano ci fornirà uno spaccato molto chiaro che Michela tra l'altro diceva già il Sole 24 Ore ha avuto modo di anticipare su alcune delle questioni che riguardano sia il costo dell'acqua per i cittadini nelle varie regioni e addirittura nelle varie province del nostro paese ma anche le ricadute di un fenomeno ancora gravissimo di grande impatto come la dispersione delle reti e quindi della risorsa preziosa che dell'acqua nel nostro paese. Oggi però oltre al rapporto avremo un focus che a noi piace sempre mettere insieme i dati ufficiali diciamo così del rapporto che è quello più legato alla percezione all'esperienza per meglio dire che i cittadini hanno dell'acqua. Saranno presentati i risultati di una survey che ha coinvolto circa 3.300 cittadini da qui emergeranno dei dati interessanti anche in questo caso non voglio anticipare ma diciamo un po' di contrapposizione, di contraddizione tra la consapevolezza che è matura, diffusa tra i cittadini di quanto importante sia l'acqua di quanto via via stia diventando una risorsa sempre più preziosa anche a causa del cambiamento climatico e nello stesso tempo una certa carenza di informazioni pratiche come fare per risparmiare ma soprattutto per ridurne l'utilizzo perché il tema in questo momento non è soltanto il risparmio in termini economici ma anche proprio la riduzione dell'uso e dell'abuso a volte che facciamo di una risorsa così preziosa e via via così più rara diciamo viste le condizioni del nostro pianeta. E poi una parola finale volevo dire sul programma generale, sul progetto in cui queste due ricerche diciamo ricerche diverse nel metodo ma spero altrettanto interessanti per chi ci ascolta si inseriscono. Un progetto che si chiama Blue Communities e che si rifà ad un'esperienza di cittadinanza attiva, un'esperienza nata 13 anni fa in Canada, un'esperienza di attivazione appunto di cittadini contro il fenomeno della privatizzazione dell'acqua. Sappiamo che questa è stata anche una grande battaglia nel nostro paese. Cittadini che per evitare questa privatizzazione si sono organizzati hanno dato luogo appunto a queste Blue Community con l'obiettivo di accrescere il grado di consapevolezza dell'importanza e dell'eccellenza di questa risorsa così preziosa. Noi abbiamo voluto un po' mutuare con tanti altri partner questa idea, questo progetto che viene dal Canada e soprattutto sposarlo col tema dell'attivismo dei giovani perché quello su cui vorremmo lavorare insieme anche con le istituzioni e vedremo degli esempi oggi anche qui non anticipo, è proprio come la comunità a partire dai giovani, dalle giovani della comunità stessa può attivarsi per rendere la propria una Blue Community, quindi una comunità attenta all'utilizzo dell'acqua e attenta anche a non sprecarla. Noi abbiamo un'ottica che è quella di costruire una generazione che lotta contro lo spreco, spreco e quindi questa è l'ottica in cui ci muoviamo anche rispetto a questo progetto. Quindi vi ringrazio di essere qui, penso che i dati che saranno presentati per alcuni aspetti saranno anche sorprendenti e poi ci saranno molti interventi interessanti che hanno a che fare anche per esempio con l'approccio psicologico alla risorsa acqua, quindi c'è tanto da ascoltare e vi auguro insomma buon ascolto e grazie per la vostra attenzione. Ti ripasso la parola Michela. Grazie, grazie ad Annalisa Mandorino, segretaria generale di cittadinanza attiva, sì appunto avremo un parterre di relatori abbastanza ampio nel senso che avremo la possibilità di sentire diverse opinioni da quelle delle autorità di Arera fino all'Istituto Superiore di Sanità, insomma diverse realtà che ci racconteranno a livello macro e a livello micro perché l'importanza del territorio, lo ha ricordato anche l'analisa Mandorino, è importantissimo per questo tipo di progettualità ma anche per la tutela proprio della risorsa idrica. Ricordo che tra poco insomma festeggeremo la giornata mondiale dell'acqua il 22 marzo, tra l'altro apro parentesi e colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti i papà visto che oggi è la giornata della festa dei papà e mi piace ricordare anche questo. Entriamo però nel cuore dei dati su cui poi faremo il nostro dibattito con i diversi relatori perché con i numeri saremo in grado proprio di raccontare come il servizio idrico integrato insomma ha la possibilità di, cioè è un servizio di fatto molto differenziato sul territorio e alcuni dati insomma richiedono una riflessione sicuramente più ampia. Entriamo quindi nel rapporto e lascio la parola a Tiziana Toto, responsabile nazionale delle politiche dei consumatori di cittadinanza attiva che ci dirà appunto sia i risultati del diciannovesimo rapporto sul servizio idrico ma anche quelli della consultazione civica che avete appunto somministrato ad alcuni cittadini. Lasciate la parola Tiziana, grazie. Grazie Michela, buongiorno, buongiorno a tutti. Vado a condividere lo schermo così. Allora ditemi se vedete la presentazione. Ok, perfetto. Allora buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per aver accolto il nostro invito sia a chi è collegato per seguire i nostri lavori sia a chi, come è stato già anticipato, darà un contributo ai lavori intervenendo come relatore. Come molti di voi sanno e come è stato anticipato, cittadinanza attiva ormai da 19 anni produce un rapporto annuale sul servizio idrico integrato che originariamente era redatto solo sugli aspetti da rifare e che successivamente è stato integrato con altri aspetti anche di natura qualitativa. Alcuni dei contenuti del rapporto saranno illustrati nel corso della presentazione, il cui oggetto principale però è rappresentato dalle informazioni raccolte tramite la nostra consultazione civica. Ditemi se scorre perché non la vedo scorrere la presentazione. Ok, adesso che è stato diciamo la consultazione civica è stata resa possibile come è stato già detto dal contributo di 3.335 cittadini. Per la realizzazione della consultazione è stato diffuso un questionario tramite i nostri canali associativi e tutti i canali web diciamo messi a disposizione da cittadinanza attiva e anche di tutte le altre associazioni partner del progetto. È il campione di riferimento ovviamente un campione casuale che non è statisticamente rappresentativo ma è però consistente visto che costa di oltre 3.300 cittadini. Per quanto riguarda la composizione del nostro campione l'età media che abbiamo rilevato è di circa 47 anni è prevalente la componente femminile con il 58%. La metà del campione oltre la metà proviene dal nord e invece la restante metà dal centro sud. Nel 74% dei casi si tratta di cittadini che lavorano o diciamo che stanno in pensione e in modo abbastanza diciamo ripartito la presenza di cittadini che hanno un'istruzione universitaria o un'istruzione di scuola secondaria superiore mentre il restante 8,8% rappresenta diciamo che ha un titolo di studio di scuola primaria o secondaria inferiore. Lo scopo della consultazione è stato quello di voler raccogliere dai cittadini delle indicazioni circa i loro comportamenti di consumo, le loro percezioni, le informazioni che possiedono e le esperienze diciamo di problematiche anche che sono state vissute raccogliendo alla fine anche una valutazione che danno del servizio e della risorsa di cui però usufruiscono. Diciamo che prima di entrare nel merito delle singole questioni vorremmo dare alcuni dati di scenario che riteniamo diciamo importanti che possono dare degli spunti alla discussione successiva. Intanto è stato rilevato che meno del 27% dei cittadini rispondenti alla nostra consultazione è a conoscenza del fatto che meno dell'1% dell'acqua che ricopre la nostra superficie terrestre sia effettivamente disponibile per il consumo umano. è anche poco chiara poi la destinazione d'uso dell'acqua che viene prelevata durante l'anno se diciamo circa il 48% individua correttamente il settore che ne assorbe di più cioè l'agricoltura è sottovalutata invece l'assorbimento di una risorsa così importante da parte degli usi domestici e all'interno di questo comparto poi c'è ulteriore confusione relativamente a quali sono le attività che quotidianamente compiamo che possono diciamo essere più impattanti sull'uso della risorsa dove un 37,5% indica l'alimentazione che invece sappiamo essere quella meno impattante rispetto all'igiene personale e alla pulizia della cazza. Ancora abbiamo rilevato che solo il 22% circa dei cittadini conosce effettivamente il concetto di impronta idrica e il 79% di essi vorrebbe diciamo conoscere l'impronta idrica dei prodotti che acquisto dei servizi che utilizza ma dal nostro punto di vista in questo momento diciamo non sono disponibili degli strumenti informativi che possano effettivamente fornire ai cittadini consumatori tale indicazione, tale informazione nel momento in cui si approcciano ad un servizio oppure alla scelta di un bene, un prodotto da acquistare e consumare. Ancora diciamo per quanto riguarda il fenomeno dei cambiamenti climatici che abbiamo prima citato e che sappiamo diciamo stanno avendo un impatto significativo sulla disponibilità dell'acqua in tutto il mondo, c'è ancora una scarsa percezione del fatto che in questo fenomeno impatterà in modo determinante anche sulla disponibilità di acqua dolce, una questione che è percepita da meno del 19% dei cittadini che hanno risposto alla nostra consultazione che si sono concentrati diciamo sui fenomeni meteorologici sempre più estremi in termini di frequenza e anche di violenza diciamo e l'aumento delle temperature, maggiori rischi di ipotermia, tutti i fenomeni diciamo che sono più visibili ma dietro ai quali si nascondono altre conseguenze che consistono proprio anche nella riduzione della disponibilità dell'acqua dolce ma anche degli altri fenomeni che vedete indicati con minori percentuali cioè le migrazioni di massa così come anche diffusione di malattia e l'aumento di perdita di numerose attività economiche come diciamo è avvenuto già se ricordiamo gli eventi che si sono realizzati nel corso degli ultimi anni nel nostro paese, non ultimo quello che è impattato sia nelle marche che in Emilia Romagna. L'ultimo dato di scenario che volevo riportare ha a che fare con quello che è stato già citato in apertura da Lisa Manturino cioè la questione delle perdite idriche che ancora affliggono pesantemente il nostro paese. Questi sono dei dati Istat che sono rivolti sono riferiti al 2020 e che ci indicano che se prendiamo come riferimento esclusivamente i capoluoghi di provincia queste perdite annoverano al 32,2% dell'acqua che viene immessa nelle tubature mentre se consideriamo tutta diciamo la comunità complessiva quindi non soltanto quelle dei capoluoghi salgono al 42,2% che sono però delle percentuali medie e sappiamo invece che in molte zone del del paese soprattutto al sud ma non soltanto perché ci sono delle province come ad esempio quella di Belluno che va anche al di sopra del 70% siamo diciamo a delle situazioni ben oltre la media. Su questo ci auguriamo diciamo che anche le risorse che sono state messe a disposizione dal PNRR possano in qualche modo diciamo andare incontro a una soluzione il problema che in questo momento diciamo e magari i nostri interlocutori che interverranno successivamente potranno darci delle informazioni in più su questo perché non abbiamo dei dati aggiornati che ci fanno capire diciamo dal 2020 ad oggi qual è effettivamente la situazione delle perdite idriche. A questo punto entriamo diciamo un po' nel vivo delle questioni che siamo andate ad intagare a cominciare da quelli che sono i comportamenti di consumo. I dati Istat ci dicono che più del 29% delle famiglie italiane non hanno fiducia nel bere acqua e di rubinetto infatti gli italiani sono i primi in Europa e secondi nel mondo per il consumo di acqua in bottiglia. Dalla nostra consultazione è venuto fuori che il 49% dei cittadini non beve regolarmente l'acqua di rubinetto ma questa percentuale sale ben al 60% nelle realtà del sud e delle isole. Le motivazioni che sono legate a queste scelte nella complessità diciamo nel complesso della situazione hanno a che fare con una questione di abitudine. Circa il 31% ci dice che non beve acqua di rubinetto per abitudine a bere l'acqua in bottiglia. Anche in questo caso abbiamo riportato un parallelismo tra quello che abbia a carattere generale e cosa succede invece nel sud e nelle isole dove oltre diciamo ad aumentare la percentuale di chi non consuma frequentemente regolarmente acqua di rubinetto vediamo che la motivazione principale circa il 36% è dovuta alla spiducia nei confronti dei controlli addirittura a ritenere l'acqua in bottiglia più salutare rispetto a quella del rubinetto. E altro indicatore che aumenta rispetto al centro e al nord è la questione delle continue interruzioni e razionamenti del servizio che danno un'indicazione negativa anche diciamo in termini di percezione di qualità dell'acqua. Siamo andati poi ad intagare dei comportamenti che avvengono al di fuori delle nostre abitazioni e abbiamo visto che solo il 4% del campione di riferimento chiede acqua di rubinetto anche quando si reca a ristorante e che solo il 36% porta fuori casa sempre con sé la borraccia. Abitudine che è soprattutto diffusa tra le donne e questo lo capiamo diciamo leggendo il dato sulle motivazioni del perché non si porti dietro la borraccia. La motivazione principale è che è pesante, in comprante e quindi diciamo di non pratica utilizzo rispetto diciamo all'acquistare al momento contingente la bottiglietta dell'acqua. Il 97% circa dei cittadini intervistati ha dichiarato di essere però molto attento o abbastanza attento a non sprecare acqua. La motivazione principale è legata proprio ad un'abitudine a non sprecare soprattutto tra le fasce d'età più elevate. In seconda istanza abbiamo una sensibilità ecologica riguardo soprattutto tra quelli più giovani e tra quelli che hanno un titolo di studio più elevato e soltanto in terza istanza abbiamo questioni di risparmio economico, il 22,3%. Poi se andiamo diciamo a capire quali sono questi comportamenti volti a non sprecare acqua vediamo che però quelli più diffusi sono i classici relativi alla chiusura del rubinetto mentre ci si lava i denti, le mani eccetera, oppure preferire la doccia al bagno e ancora utilizzare gli elettromestici sono a pieno carico mentre sono man mano meno diffuse degli interventi un po' più strutturali come riparare immediatamente i guasti e le perdite dell'impianto, installare i miscelatori d'aria, i rubinetti e gli scarichi del water che regola il flusso d'acqua e così via. Ancora per quanto riguarda comportamenti di consumo abbiamo chiesto diciamo se fosse la conoscenza dell'esistenza delle case dell'acqua all'interno del loro comune di riferimento e poco più del 49% ci dice di sì ma poi diciamo soltanto il 20% di essi si è rifornito presso le case dell'acqua con una certa frequenza cioè con frequenza mensile il 4,4% e con frequenza settimanale il 15,9%. Abbiamo chiesto infine se nelle proprie realtà si fosse a conoscenza diciamo di iniziative promosse per sensibilizzare in direzione della sensibilità della sostenibilità ambientale oppure sull'importanza dell'utilizzo dell'acqua di rubinetto diciamo per ridurre sprechi e limitare anche l'utilizzo di bottiglie di plastica ma ne ha conoscenza soltanto il 17% dei cittadini che sono stati consultati e nel grafico sono illustrate diciamo le tipologie di comportamenti di consumo che sono state diciamo messe in atto. Se passiamo alla questione delle percezioni mentre i dati ufficiali ci dicono che in media ognuno di noi quotidianamente consuma oltre 215 litri di acqua al giorno appunto i cittadini che hanno risposto alla nostra consultazione ci restituiscono un dato di molto sottovalutato cioè viene fuori una media di 62 litri abitante giorno quindi ancora non c'è la corretta percezione di quelli che sono i nostri consumi di questa risorsa che reputiamo preziosa da non sprecare e alla quale però continua a continuiamo a fare poca attenzione. Ancora oltre il 45% ritiene, è la percezione dei consumatori che abbiamo intervistato, più controllata l'acqua in bottiglia. Una percentuale che poi sale al 57% nel caso dei rispondenti del sud e delle isole contro il 39% del nord. Il 12% dichiara che negli ultimi due anni nel proprio comune siano state messe delle ordinanze di non potabilità e anche in questo caso la percentuale sale al 24% circa nel caso del sud e delle isole. Quindi c'è questa percezione peggiorativa della situazione nel sud e nelle isole del nostro paese che va ovviamente poi ad incidere anche sull'utilizzo più diffuso dell'acqua in bottiglia. Ancora il 52% ritiene insufficiente oppure di scarso il livello delle informazioni che hanno a disposizione e a disposizione in un formato che sia accessibile e comprensibile sulla qualità dell'acqua di rubinetto che viene erogato. E questo è un altro elemento di porre all'attenzione dei decisori e dei gestori del servizio perché anche diciamo questo dato incide negativamente diciamo sulla scelta poi di consumare, di preferire l'acqua in bottiglia rispetto diciamo all'acqua di rubinetto. Il mezzo tramite il quale vorrebbero ricevere informazioni sulla qualità dell'acqua, quello preferito è la bolletta scelto dal 49% circa dei rispondenti ma poi vengono anche indicate altre modalità come lo sportello, il sito web del gestore del servizio idrico oppure dello stesso comune o della ASL o anche la bacheca del condominio. Ancora il diciamo 19% dei cittadini che hanno partecipato alla nostra consultazione lamentano la presenza di razionamenti stagionali dell'acqua e nel 3% questi razionamenti sono giornalieri. Ecco qua la situazione cambia radicalmente spostandoci ancora una volta sulle risposte dei cittadini del sud delle isole dove la presenza di razionamenti stagionali viene lamentata dal 33,8% dei rispondenti e quella di razionamenti giornalieri dall'8,6% dei rispondenti. Per quanto riguarda la conoscenza che i cittadini che hanno risposto hanno del servizio idrico vediamo che ben il 31% dei cittadini consultati non sa, non è a conoscenza di chi sia il proprio fornitore del servizio idrico, un dato che non ci stupisce tantissimo considerata l'elevata percentuale di cittadini che vivono in realtà condominiali che non ricevono direttamente la bolletta relativa al servizio idrico. In questo caso la percentuale diciamo di mancata conoscenza, il 51%, più elevata è ovviamente nelle fasce d'età più giovani che non gestiscono le utenze in prima persona e anche nei cittadini del nord che risultano essere meno infermati rispetto a quelli del centro e del sud e delle isole. La situazione della conoscenza è ancora di più critica per quanto riguarda il proprio consumo anno in metri cubi e l'articolazione tariffaria che viene applicata dal proprio gestore. la bolletta annua che si paga per la fornitura del servizio idrico risulta adeguata per il poco più del 41% dei cittadini rispondenti e alta nel 37,5% dei casi. Anche in questo caso però andiamo a vedere che cosa succede spostandosi dal nord al centro e al sud. La percezione di bolletta alta è manifestata soprattutto dai cittadini del sud, noi nella realtà dei fatti vedremo successivamente che i costi più elevati non sono riscontrabili nelle realtà del sud, ma questo dato lo leghiamo a un immediato collegamento tra il costo che si paga e l'adeguatezza del servizio e quindi nella percezione dei cittadini che abitano nel sud e nelle isole del nostro paese c'è evidentemente una percezione di qualità del servizio meno elevata che porta a considerare il costo che si paga in bolletta non adeguato rispetto al servizio che si riceve. Esistono vari strumenti che i gestori poi possono mettere a disposizione per far conoscere meglio il servizio agli utenti ma purtroppo ancora questi strumenti sono poco utilizzati dai cittadini consumatori che continuano a indicare quale strumento maggiormente utilizzato di cui sono a conoscenza, la bolletta e soltanto in minima parte, gli altri strumenti quali il sito web oppure l'utilizzo di contatori che diciamo ancora in larga misura soprattutto in determinate zone del paese sono di tipo tradizionale che non danno delle informazioni importanti rispetto ai consumi che si pongono in essere piuttosto che opuscoli informativi o la carta della qualità del servizio. Per quanto riguarda la conoscenza del servizio è ancora diciamo poco conosciuto lo strumento del bonus sociale idrico e ancor meno del bonus integrativo che può essere messo a disposizione dei cittadini nelle diverse realtà locali. Anche in questo caso la percezione, la conoscenza è più accentuata nelle realtà del sud e delle isole rispetto a quello che avviene nel nord e nel centro ma questo diciamo è una derivazione diretta anche del fatto che il bonus idrico sia più diffuso nelle realtà del sud e delle isole rispetto a quello che avviene nel resto del paese. I costi del servizio abbiamo riportato un po' quale è stato l'antamento della spesa a carico di una famiglia tipo di tre persone che consuma 182 metri cubi dal 2019 al 2023 c'è stato un incremento medio di circa il 18% e del 4% nell'ultimo anno e da questo grafico è evidente come diciamo le regioni del centro siano manifestamente al di sopra della media dei 478 con una spesa di 650 rispetto poi ai 433 del sud e delle isole e 427 del nord. Ancora abbiamo valutato diciamo quale potrebbe essere il risparmio di questa famiglia se invece di consumare 182 metri cubi consumasse 150 metri cubi con un risparmio medio di circa il 27% e siamo andati a fare una simulazione del bonus idrico del nostro nucleo di tre componenti nelle diverse aree del paese con diciamo una media di 104 euro che a seconda diciamo del consumo di 182 o di 150 ha una incidenza sulla spesa finale per gli aventi diritti al bonus che potrebbe diciamo ridurla a 374 euro invece dei 478 nel caso di 182 metri cubi e 270 anziché di 377 nel caso del consumo di 150 metri cubi. Abbiamo riportato diciamo un po' quali sono le città in cui si spente di più e le città in cui si spente di meno sui 182 sui 150 metri cubi e sui quali diciamo non mi soffermo ulteriormente tutti i dati saranno disponibili sono disponibili sul nostro sito internet. Per quanto riguarda la questione dei disservizi e della valutazione del servizio, il 41% dei cittadini che ha partecipato alla nostra consultazione dichiara di aver subito negli anni almeno uno di questi disservizi indicati e ancora una volta nelle aree del sud e delle isole la percentuale sale al 60% circa. Le questioni riguardano soprattutto l'interruzione del servizio senza preavviso e poi diciamo tutta la questione della fatturazione, dei conguagli e delle mancate rataizzazioni e così via. Siamo andati a chiedere una valutazione del servizio idrico nella propria realtà abitativa e diciamo che l'88,5% dei cittadini rispondenti danno comunque un giudizio sufficiente o positivo e come anticipato le principali criticità riguardano la comprensibilità delle bollette e il servizio di assistenza agli utenti. Se poi prendiamo in considerazione soltanto le valutazioni negative del servizio per area geografica vediamo come la situazione cambia a seconda che ci si sposti dal regioni del nord e del centro e quelle del sud delle isole che sono gli histogrammi in grigio e che vediamo diciamo in maniera notevolmente superiore su tutte le indicazioni, le valutazioni negative ad iniziare dal servizio di assistenza per gli utenti, il 35%, la comprensibilità delle bollette ma anche le caratteristiche organolettiche è la frequenza di lettura del contatore e così via. La mia presentazione termina qua, spero di non aver rubato tanto tempo e di aver dato degli spunti che possano effettivamente diciamo dare un contributo alla discussione che ne seguirà. Grazie ancora e buona continuazione a tutti. Grazie a Tiziana, grazie a Tiziana Toto per averci dato il quadro insomma generale con i numeri. L'audio Michela. L'audio, mi sentite? Sì sì. Ok, grazie insomma dei numeri perché riflettono insomma veramente tantissime Italie diverse nel senso che quello che mi sembra evidente anche da questi numeri mi piace un po' riassumere brevemente quello che abbiamo visto. Ci sono ovviamente tantissimi indicatori che raccontano della qualità del servizio e di quello che è la percezione del servizio da parte dei cittadini. Abbiamo visto però che le risposte, le percentuali insomma salgono in termini di percezione negative del servizio nelle regioni, nelle realtà del sud e del mezzogiorno. Al di là di quanto questo si rifletta poi nei costi delle bollette che anche su questo insomma potremmo ragionare parecchio, mi sembrava interessante capire anche quanto in realtà questo poi si riflette in una differente modalità di consumo dei cittadini stessi che per esempio dichiarano proprio al sud e nel mezzogiorno di essere meno inclini insomma a bere l'acqua dal rubinetto. Quindi ci sono evidentemente anche proprio delle dinamiche nella qualità del servizio che si traducono in comportamenti di consumo diversi. Sicuramente tutti questi numeri ci faranno davvero discutere in questa mattinata di diversi interventi. Ricordo che i divari tra nord e sud sono anche oggi all'ordine del giorno nell'emergenza seccità che viviamo perché sì le ultime precipitazioni hanno in realtà riempito i bacini del nord Italia e anche le abbondanti nevicate hanno sicuramente saldato il deficit di siccità nel nord però al sud ancora viviamo invasi al minimo storico quindi insomma il tema siccità esiste e le piogge anche al centro non sono comunque riuscite ovunque a ridurre il gap. Quindi i divari sono da guardare sotto diversi punti di vista e si traducono come abbiamo visto anche in un servizio idrico molto differente con più di 2000 modalità di gestione 2300 mi pare società di gestione realtà di gestione del servizio idrico a livello nazionale quindi un servizio molto frammentato. Entriamo quindi nel dibattito guardando questi numeri con i primi relatori e ricordo questo è un po' il dovere da vigile sparti traffico insomma che farò questa mattinata che ognuno di voi ha circa 10 minuti al massimo di intervento perché appunto siamo in tanti quindi sarà mio compito insomma darvi un po' di direzioni di dirigere il traffico. Inizierei con uno sguardo internazionale direttamente da Pablo Sanchez che è qui insomma con noi e lui rappresenta lo European Public Service Union quindi il sindacato europeo delle utilities. La prima domanda ovviamente è sui dati che ha appena visto nel senso che mi sembra di un po' la nostra realtà italiana è indubbiamente molto differenziata però volevo capire anche dallo sguardo internazionale quali sono i dati che vi hanno colpito di più e soprattutto quali sono le indicazioni che come utilities a livello europeo date per migliorare il servizio sul territorio. Mi sentite? Buongiorno ringraziare la invitazione per me il dato che mi ha colpito di più e la poca fiducia al sistema idrico pubblico italiano della gente che da un paese chi ha dei acquadotti romani dopo 2.000 anni non c'è fiducia al sistema, alle utility che funzionano e questa è un po' la cosa la più colpante dell'introduzione per me e anche credo che Tiziana ha detto che è il secondo paese al mondo che consuma di più di acqua in bottiglia questo è un po' il primo in Europa mi colpisce perché normalmente se possiamo comparare la questione in Grecia per esempio la fiducia è molto grande possiamo credere o pensare che la città è molto differente perché questa è la cosa la più colpante ma della stessa maniera che avete una situazione molto differente tra il nord e il sud dell'Italia e l'Europa la situazione è molto diversa quindi è un po' difficile fare una una generalizzazione omogenea di questo e in tutti i paesi del nord hanno questo problema quindi abbiamo delle situazioni molto vicine anche molto diverse in Irlanda e in Scozia per esempio possiamo pensare che è più o meno la stessa cosa che abbiamo una situazione di due aziende pubbliche una situazione di una qualità molto buona in Scozia e una situazione un po' di perdita di acqua molto grande in Irlanda quindi è uno dei dati molto utili per utilizzare ma anche per intentare fare una proiezione europea di questa questa informazione per me la prima cosa a dire è un po' scusarmi del mio pessimo italiano sono arrugginito quindi oggi metto un po' il complimenti perché per me non sarebbe così facile l'accento estotico spagnolo quindi mi scuso e anche ringraziare di nuovo di aver pensato a noi noi siamo il sindicato come avete detto il sindicato europeo dei utility anche dei servizi pubblici in generale abbiamo guidato la prima campagna europea per il diritto umano all'acqua e questo siamo che è molto importante che Nazioni Unite ha dichiarato l'acqua e il servizio di sanimento sanimento igienico-sanitari un diritto umano anche oggi solamente la Slovenia ha inserito questi principi nella sua costituzione e noi pensiamo che è un po' una cosa a fare un lavoro a fare in ogni paese e anche a livello europeo abbiamo fatto quasi il buono senso ma non abbiamo questi principi nella costituzione di ogni paese o la legge organica o un luogo dove possiamo parlare del risorso dell'acqua ma anche come possiamo gestire di un'altra maniera perché la situazione del stress idrico l'abbiamo a diverso livello ma esiste un po' da tutti il paese europeo Ricordiamo anche che l'acqua è tra le grandi sfide dell'agenda 2030 dell'ONU nel senso che nel Goal 6 è proprio per la tutela delle risorse idriche quindi comunque si inserisce in un quadro anche questo di sfida alla sostenibilità a livello internazionale ci sono delle esperienze nei paesi che chiaramente vi vedono impegnati come sindacato europeo delle utilities delle esperienze magari degne di nota noi ovviamente oggi racconteremo le blue communities a livello italiano ma magari ce ne sono anche a livello di panorama internazionale che possiamo citare il nostro è un servizio molto frammentato sono oltre duemila ricordavo prima le realtà che gestiscono il servizio è così anche altrove? Sì la settimana scorsa sono andato a no, sì no oggi sì, venerdì sono andato a Parigi a una conferenza a Sorbonne e in Francia c'è dieciamila operatori a tutto il livello c'è una politica è stata dopo dieci anni fa per fare della mancomunalizzazione questo non so se sia italiano ma è un termine di intentare di mettere i operatori i piccoli operatori in rete per fare l'economia come si dice in italiano? scale e fare delle economie di scala a livello di scala di arriente di scala di rispetto di rispetto di rispetto di rispetto sono un po' che sono un po' isolato delle grandi città e anche perché la politica europea è molto chiede di più e più di investimento quindi c'è molto è molto difficile per il paesino 5.000 persone abitanti di arrivare al livello di investimento che deve emettere per il criterio di qualità dell'acqua a livello europeo certo quindi la qualità si raggiunge facendo rete anche insomma tra operatori perché sappiamo che ci sono alcuni territori dove non è così facile anche per esempio noi in Italia abbiamo diversi fondi che sono in arrivo col piano nazionale di ripresa e resilienza però poi gli attori che devono in qualche modo implementare queste azioni sono sicuramente realtà che non sempre insomma hanno la capacità di progettualità di questo tipo di interventi e la ringrazio insomma di essere stato qui con noi di aver partecipato a questo nostro dibattito e di averci portato un po' le esperienze internazionali abbiamo sentito appunto da Pablo Sanchez che anche in Francia sono tantissimi gli operatori nel territorio e quindi probabilmente diceva prima quanti sono in Francia? 9.000 C'è quindi insomma abbiamo delle realtà anche con i nostri cugini francesi che potremmo insomma riuscire a confrontare con le nostre grazie mille e prego ma questa è una situazione europea perché normalmente è il comune che gestisce l'acqua e quindi c'è sempre un elemento comunale che deve essere messo con gli altri ma per noi è molto importante che questo processo dell'economia di scala deve essere fatto con dei criteri politici come i criteri di Nazioni Unite per il diritto umano all'acqua grazie grazie ancora grazie davvero e niente allora a questo punto darei sempre una parola a insomma un altro rappresentante delle realtà insomma delle utilities italiane sempre per cercare insomma di capire come in Italia l'erogazione di questo servizio idrico viene invece tradotta nel senso che darei la parola subito a Filippo Brandolini presidente di Utilitalia proprio per riuscire a raccontarci insomma lo sguardo italiano vedo un attimo il collegato eccolo là grazie intanto di essere qui con noi a Filippo Brandolini presidente di Utilitalia guardi allora io le chiedo subito ovviamente a commento anche dei dati che abbiamo visto all'inizio perché hanno raccontato tantissime Italie diverse voi chiaramente rappresentate realtà da nord a sud del paese cosa state facendo per implementare le misure del piano nazionale di ripresa e resilienza sul territorio proprio perché abbiamo visto le molte differenze anche legate alle perdite idriche insomma quindi volevo chiederle proprio questo qual è l'azione che le realtà di gestione stanno facendo sul territorio per implementare la tutela della risorsa idrica a lei la parola grazie buongiorno a tutti grazie grazie per l'invito e per l'interessante confronto che state svolgendo e anche grazie a Pablo Sanchez per l'interessante intervento che mi ha preceduto io innanzitutto vorrei precisare un aspetto perché questo è un elemento che differenzia o può differenziare il nostro paese da altri paesi europei il servizio idrico integrato come avete correttamente come l'avete correttamente nominato anche in precedenza si compone di varie fasi non solo quindi della produzione e distribuzione di acqua potabile il servizio apodottistico così come tutti lo conosciamo ma anche della gestione delle acque dopo che sono state utilizzate consumate quindi la rete foniaria e gli impianti di repurazione che devono essere asserviti alla rete foniaria per restituire l'acqua un'acqua con caratteristiche adeguate all'ambiente e questo è un elemento che è stato stabilito diciamo questa gestione integrata con una legge del 94 quindi che ha compiuto 30 anni è un elemento importante perché sottolinea e in qualche modo ci induce a sottolineare come la gestione dell'acqua non possa essere pensata attraverso gestioni in economia dei comuni o piccole gestioni ma occorrono dei soggetti industriali che abbiano la capacità di investire quindi di disporre di risorse finanziarie importanti di investire per realizzare degli investimenti oltre ad avere adeguate conoscenze tecniche ingegneristiche e anche di innovazione per lo sviluppo del servizio idrico e delle infrastrutture per affrontare tutti o tanti dei problemi che sono stati oggi citati da quelli dei cambiamenti climatici a quella della riduzione della dispersione delle reti e comunque degli adeguamenti infrastrutturali ricordiamo che il nostro paese è un paese che è sotto procedure di infrazione perché molte regioni non adempiono a quanto richiesto per quanto riguarda la depurazione occorre fare investimenti importanti in infrastrutture allora che cosa stanno facendo le utility le utility grazie anche a un cambiamento normativo importante ovvero all'avere sottoposto il servizio idrico la regolazione di Arera poi nel panel dell'intervento è previsto anche il dottor Bardelli di Arera che meglio potrà parlare del ruolo che loro svolgono dal momento in cui il servizio idrico è stato sottoposto a regolazione sono state definite regole certe sia in termini di obbligi sia in termini di benefici premialità per aumentare il livello di investimenti nel nostro paese e sottolineo un dato ovvero dal 2012 primo anno di regolazione Arera al 2022 il livello di investimenti è aumentato del 94% quindi è stato quasi raddoppiato siamo arrivati a 64 euro per abitanti all'anno nel 2023 i dati non sono ancora definitivi ma si stima che questi 64 sono diventati 70 euro è un importo importante ma ancora al di sotto della media europea che ci dice che invece il livello medio pro capito di investimenti è di 82 euro mentre nei paesi più virtuosi in particolare del nord d'Europa si arriva anche a 100 euro questo ha consentito di aumentare notevolmente il livello di investimenti e ha consentito di migliorare diciamo il sistema infrastrutturale anche se qui rispondo anche a una domanda che era stata posta nella presentazione dei vari dati anche se il recupero del gap richiede molto tempo perché prima del 2012 il livello degli investimenti era notevolmente più basso era molto limitato a fronte di una rete acquedottistica che è oltre 425 mila chilometri lineari che per il 25% ha oltre 50 anni quindi ha una rete vetussa per il 60% sono i giornali dati a oltre 30 anni questa è anche un po' la spiegazione del perché nel nostro paese ci sia ancora un livello molto elevato di perdite di rete negli ultimi anni grazie all'aumento degli investimenti si sono ridotti da alcuni punti percentuali le perdite di rete passando da 44-45% grossomodo al 40-41% giusto aspettare degli ordini di grandezza qui c'è un dato che porto l'attenzione anche perché sono le riflessioni che faceva prima di me Pablo Sanchez molto importante il 64 euro abitanti all'anno medi di investimento è appunto la media nazionale ma poi se andiamo a vedere che cosa accade nelle gestioni in economia questi 64 euro crollano a 11 euro abitante anno e le gestioni in economia sono prevalentemente collocate nelle regioni meridionali sono ancora 1519 i comuni che gestiscono in economia il servizio idrico o quantomeno una delle parti del servizio idrico che sono proprio quelle realtà in cui si fatica a realizzare le infrastrutture necessarie per garantire una qualità adeguata del servizio idrico sia in termini diciamo di fornitore di acqua potabile dell'acquedotto ma anche di gestione delle acque reclue e quindi qui si genera anche quella diffidenza o quella percezione negativa che molti utenti hanno appunto in maniera differenziata rispetto ad altre parti del nostro paese un contributo importante il livello di investimenti finanziati dalla tariffa poi un ragionamento su questo vorrei farlo raggiunto di circa 4 miliardi all'anno un contributo importante lo sta dando il PNRR e altri fondi europei destinati proprio al modernamento infrastrutturale che ci consentono di arrivare in questi anni circa 6 miliardi di investimenti quindi 4 finanziati dalle imprese dalle utility attraverso la tariffa quindi il cittadino nel servizio dell'acqua paga una quota destinata agli investimenti gli investimenti vengono realizzati e ritornano in termini di copertura dei costi nei 20 anni successivi attraverso il pagamento delle tariffe a questi 4 miliardi si insomma circa 1 miliardo e 9 quasi 2 miliardi appunto di PNRR e altri fondi pubblici che hanno la funzione fondamentale via accelerare la realizzazione in questi investimenti che servono da modernare il sistema infrastrutturale a ridurre ulteriormente le perdite noi stiamo ponendo un tema ai nostri interlocutori innanzitutto al governo ovvero questo livello di 6 miliardi di investimento occorrerebbe mantenerlo stabilmente per recuperare i gap e pregressi e soprattutto per realizzare quegli ulteriori investimenti necessari per affrontare i cambiamenti climatici e per fare questo è importante diciamo riprendere ridare vigore a quel processo di industrializzazione del servizio idrico in tutto il paese quindi superare le gestioni in economia superare le piccole gestioni favorire le aggregazioni perché le economie di scala sono fondamentali per riuscire a realizzare questi importanti piani di investimento perché per riepilogare come finanziamo gli investimenti abbiamo tre leve la prima leva è la leva tariffaria ovvero noi i cittadini utenti pagano gli investimenti attraverso le tariffe la seconda leva sono i finanziamenti pubblici il PNRR o altre linee di finanziamento e c'è una terza leva che di fatto si aziona sempre attraverso le tariffe ma sono i recuperi di efficienza laddove ci sono società industriali si riducono i costi e quindi le tariffe invece di pagare dei costi operativi pagano degli investimenti quindi ad invarianza di tariffaria per quella parte il recupero di efficienza consente di recuperare delle risorse e di liberare delle risorse economiche per realizzare gli investimenti per questo stiamo sostenendo l'importanza di favorire ulteriormente quei processi di industrializzazione di aggregazione che in alcune aree del paese stanno procedendo troppo lentamente grazie sono numeri sicuramente che parlano tantissimo perché i 64 euro per abitante di investimento abbiamo visto quanto sono cresciuti però abbiamo visto ancora il gap rispetto alle medie europee o anche ad alcuni paesi che insomma investono di più è stato sicuramente efficace riuscire a capire quanto il tema degli investimenti è importante anche per riuscire ad avere un impatto poi sul consumatore nella percezione del servizio mi sembra di capire che è anche un tema proprio di governance quella proprio di riuscire insomma a cercare di adottare delle misure in questo senso ricordava prima che sono appunto ancora 1500 i comuni che gestiscono il servizio in autonomia e l'importanza insomma del fare rete la ringrazio ancora per l'intervento e davvero appunto seguiremo anche passo passo quella che sarà l'attività che porterete avanti anche nelle richieste di mantenere questo 6 miliardi come obiettivo di anche dopo il PNRR di investimento sulla rete idrica perché è importante soprattutto in vista di quello che è il fenomeno climatico della siccità che purtroppo non credo passerà guardiamo anche in parallelo insomma la sintesi grafica che appunto abbiamo la possibilità di riuscire ad avere grazie ai disegni insomma che ci accompagneranno per tutta la diretta di questa mattinata che riescono un po' a sintetizzare quanto è stato detto anche proprio da Filippo Brandolini insomma del presidente di Utili Italia lo ringrazio ancora e do la parola subito alla nostra relatrice che viene subito dopo insomma l'onorevole Chiara Braga della Camera dei Deputati soprattutto è rappresentante insomma dell'ottava Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici la ringrazio moltissimo per essere qui con noi al di là di quella che è stata la sua esperienza in passato legata a un disegno di legge importante sull'acqua quello che mi interessa riuscire a capire è il dibattito anche parlamentare legato alla governance su questo tema sul tema dell'acqua nel senso che molto è stato fatto chiaramente negli ultimi anni però ancora abbiamo sentito anche proprio poco fa dal presidente di Utili Italia abbiamo tantissimi un servizio frammentato una difficoltà anche nella fatturazione del sistema insomma è anche un sistema di misurazione di queste dispersioni idriche che è datato insomma c'è ancora molto da fare quindi quali sono insomma anche i passi che una legislazione attiva insomma potrebbe fare per riuscire a dare una governance più efficiente a questo settore buongiorno a tutti e a tutti grazie ringrazio cittadinanza attiva per avermi coinvolto in questo momento in questa mattinata in questo dialogo e anche per i dati molto interessanti che emergono dal rapporto sul servizio idrico integrato sulla consultazione che ne sta alla base cerco di essere molto diciamo schematica e anche di rispondere un po' alla sua sollecitazione intanto partendo da un presupposto che in parte si ricollega a quello che diceva prima il presidente Brandolini noi oggi abbiamo un quadro normativo che disciplina il servizio idrico integrato la gestione del servizio idrico integrato abbastanza consolidato che ha avuto sicuramente un avanzamento importante io credo attraverso il ruolo della regolazione svolto da RERA in questi anni e questo lo considererei un primo punto fermo nel senso che siccome mi chiedeva anche qual è il dibattito parlamentare stiamo vedendo insomma tentativi anche di rimettere un po' in discussione il modello della gestione del servizio idrico integrato con dei passi indietro che ripristinino che ripristinano la possibilità di gestioni ancora più frammentate di quelle che abbiamo io credo che la stabilità diciamo così del sistema sia un valore ci sono ancora molti obiettivi da realizzare e il vostro studio il rapporto aiuta a metterli in evidenza c'è ad esempio una disparità territoriale abbastanza forte sul tema della efficienza della gestione del servizio che si ripercuote anche poi sui comportamenti degli utenti dei consumatori a me ha colpito molto quel dato che fa segnare una differenza così forte sul consumo di acqua del rubinetto diciamo così in alcune aree in particolare del paese dove c'è una sostanziale o più diffusa sfiducia nel sistema dei controlli o una minore capacità di poter accedere a informazioni sulla sicurezza dei controlli sulla qualità dell'acqua del rubinetto insomma questo mi pare abbastanza importante da sottolineare io credo che ci sia bisogno di rafforzare senza scombussolamenti diciamo senza scombinare il quadro delle regole che oggi disciplinano il servizio idrico integrato ci sia bisogno di continuare nella direzione degli investimenti questo è un punto essenziale per ridurre anche quei gap sulla efficienza delle infrastrutture con un ruolo pubblico che deve essere affermato e esercitato pienamente guardate soprattutto sul tema della programmazione dell'indirizzo della priorità degli investimenti e del controllo forse ancora prima che della gestione nel nostro paese ci si accapiglia molto quando si parla di gestione dell'acqua sul modello di gestione pubblico privato io conosco situazioni e realtà assolutamente virtuose ed efficienti di gestione totalmente pubblica del servizio idrico come ne conosco altre che lo sono molto meno e il tema non è la natura giuridica di chi diciamo del soggetto in sé ma è l'assetto quindi avere delle strutture pubbliche esistono possono esserci che gestiscono con un impianto con un approccio industriale il servizio idrico così come credo che sia sbagliato demonizzare un coinvolgimento anche del privato nella gestione del servizio idrico quello che però non può mancare in nessun caso è la presenza di un ruolo pubblico molto forte di programmazione di indirizzo e di controllo nelle mani ovviamente delle comunità territoriali quindi oggi qui abbiamo anche rappresentanti diciamo dei comuni dei assessori insomma che lavorano molto con un'attenzione su questi temi che io credo sia un elemento discriminante per fare in modo che si raggiunga l'obiettivo cioè fare investimenti in grado di garantire l'accesso a un servizio di qualità a costi accessibili a tutti i cittadini e questo elemento del ruolo pubblico secondo me è particolarmente importante anche rispetto a quello a cui accennavo prima cioè al tema del controllo e della diffusione delle informazioni conforme che possano arrivare il più possibile all'utente finale al cittadino perché questo davvero orienta e incide sulla possibilità di adottare modelli di consumo più sostenibili quindi ad esempio evitare lo spreco cercare essere consapevoli anche che dai propri comportamenti passa una maggiore diciamo così efficienza della gestione dell'acqua e quindi una riduzione degli sprechi ma anche la possibilità di sentirsi rassicurati nel consumo dell'acqua del rubinetto anziché nell'accesso a modelli di consumo legittimi ma che sicuramente hanno un'impronta ecologica molto più consistente e meno sostenibile e il tema dei controlli chiama in causa diciamo il fatto che oltre alle informazioni e ai controlli che vengono che devono essere garantiti dai soggetti gestori ci sia anche nel nostro paese una rete di soggetti che garantiscono controlli terzi soprattutto quando si parla di un servizio così importante che ha un'incidenza sulla sicurezza ovviamente sulla qualità del servizio ma anche sulla salute dei cittadini più in generale diciamo mi pare di poter dire che quello che sarebbe molto importante oltre ad alcune cose che ho provato a dire è riuscire a mantenere questo sguardo unitario organico a me è capitato anche nella mia esperienza parlamentare diciamo che ci si interroga molto su cosa succede dell'acqua solo nel momento in cui si aprono i rubinetti e ci si interessa invece troppo di tutto quello che sta a monte quindi della gestione responsabile delle risorse idriche di una programmazione che incide anche su tutto il ciclo idrogeologico sulla questione della messa diciamo così degli assetti idrogeologici legati e acuiti dal cambiamento climatico e tutto quello che sta a valle cioè cosa succede sul tema della depurazione sappiamo che abbiamo ancora molte zone del paese che sono deficitarie rispetto agli obiettivi comunitari sul raggiungimento degli obiettivi di depurazione e quindi più in generale della qualità dei corpi idrici e delle superficiali un ultimo appunto che vorrei sottolineare è quello che anche voi richiamate come uno strumento anche qui che nel corso del tempo sia abbastanza consolidato cioè il bonus sociale idrico questo è stato frutto lo voglio ricordare di un lavoro davvero parlamentare perché è stata una norma approvata ormai nel lontano 2016 dal Parlamento in un collegato ambientale quindi una norma scaturita proprio da un lavoro parlamentare che ha consentito di istituire poi i tempi di attuazione sono stati un po' più lunghi uno strumento di protezione per gli utenti domestici che hanno delle condizioni di disagio economico e sociale io penso che questo sia stato un punto importante che poi è stato implementato ampliato allargato anche con misure di carattere locale che ha segnato un avanzamento significativo cioè il tema dell'accesso all'acqua per tutti indipendente indipendentemente dalle loro condizioni economiche e sociali è un diritto fondamentale che il nostro paese e diciamo così la Repubblica deve garantire ancora di più secondo me in un contesto in cui sappiamo lo stress a cui è sottoposto la risorsa idrica e le risorse naturali cresce per mille ragioni legate diciamo alla crisi climatica a tutte le questioni di cui pure voi avete parlato credo che su questo strumento che ormai ha qualche anno sia anche consolidato serva però un grande sforzo di informazione di diffusione ci sono ancora troppi soggetti che non accedono automaticamente non sono pienamente a conoscenza della disponibilità di questa misura e anche delle misure integrative attivate a livello locale e mi pare invece che questo sia un obiettivo da continuare a porsi e a perseguire con convinzione sì certo ricordiamo anche prima il dato era del mi pare 43% di cittadini che erano a conoscenza del bonus idrico quindi in realtà appunto un gap ancora elevato giustamente lei ha fatto riferimento anche a tutta una necessità di investimenti sul territorio noi ricordiamo abbiamo intervistato sul Sole 24 Ore ieri il nuovo commissario per l'emergenza idrica Nicola Dell'Acqua che appunto ci ha raccontato come in attesa insomma delle infrastrutture perché purtroppo parliamo un po' da mesi e mesi delle infrastrutture per l'emergenza e in realtà adesso il tema vero sia quello della prevenzione quindi la necessità di andare insomma anche a fare degli interventi sia sugli invasi che sui bacini e ovviamente per pulirli e cercare di mantenere quanto quanta più acqua possibile ma anche a livello di servizio idrico cercare insomma di efficientare il più possibile quindi il servizio sul territorio ci sono però lo ha detto anche lei stessa alcuni territori dove tutto ciò è più difficile perché parliamo di realtà micro o realtà che fanno fatica insomma ad accedere anche ad investimenti così grandi è possibile in qualche modo anche cercare di creare o di immaginare una rete che aiuti questi territori che sono più indietro di altri a compiere il famoso salto cercando di insomma di andare incontro a questi investimenti io penso che per poter intercettare accedere a questi investimenti serve appunto una sorta di infrastrutturazione anche organizzativa gestionale per questo motivo io penso che il processo di aggregazione in particolare sugli ato sugli enti di governo gli ambiti territoriali ottimali di governo deve andare avanti ci sono alcune realtà che faticano ancora a renderli pienamente operativi gli enti di governo d'ambito servono a mettere a sistema le necessità e anche a dare un minimo di supporto soprattutto a quelle realtà piccole o piccolissime che da sole non avranno mai la possibilità di accedere a questi finanziamenti quindi io sono da sempre una sostenitrice del processo di aggregazione con un ruolo lo ribadisco ancora una volta saldamente di controllo pubblico del ruolo di programmazione di indirizzo e anche evitare di fare al contrario dei passi indietro cioè io penso che l'assetto industriale che deve caratterizzare anche tutti i gestori siano essi pubblici in house totalmente modalità mista o privata è un presupposto per poter diciamo così realizzare quegli investimenti che servono a superare questo 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 divario questo deficit che c'è ovviamente lo dico ancora una volta qui stiamo parlando di una risorsa molto particolare che è una risorsa che ha un grande valore ambientale ecologico quindi anche il tipo di investimenti che si fanno pur dovendo rispondere ad un'esigenza di equilibrio economico non possono mettere in secondo piano l'aspetto ambientale ecologico quindi io penso che anche in questo è fondamentale davvero che il controllo pubblico in qualche modo garantisca che non si facciano investimenti finalizzati solo all'ottimizzazione alla massimizzazione del profitto e neanche che si facciano investimenti che non che non tengano in giusta considerazione l'impatto ambientale di questi investimenti cioè c'è tutta un'esperienza molto importante sulla gestione più in generale non solo del servizio idrico ma della risorsa acqua i contratti di fiume sono uno strumento di programmazione partecipata territoriale c'è bisogno di mantenere molto alto il livello di consapevolezza che qui stiamo parlando di una risorsa che ha un grande valore ambientale sociale oltre che dare un servizio adeguato a costi accessibili a tutti i cittadini certo grazie di aver ricordato appunto questo poi lo celebreremo nella giornata mondiale dell'acqua insomma questo questo tema importantissimo della tutela della risorsa idrica tra qualche giorno grazie davvero all'onorevole Braga per dovere di cronaca ricordo che abbiamo comunque invitato anche Michela ti abbiamo persa mi sentite? adesso sì abbiamo persa subito dopo la Braga ok c'è stato probabilmente un flash del computer che spero non mi abbandoni ma ha avuto una difficoltà tecnica comunque dicevo che abbiamo appunto avuto con noi l'onorevole Braga adesso andiamo a dare la parola direttamente a Lorenzo Bardelli direttore della divisione ambiente di Arera che è qui con noi giusto per riuscire a raccontarci anche cosa l'autorità sta facendo per riuscire a migliorare insomma la qualità del servizio idrico e anche a monitorarla insomma in quello che è la parte più di controllo insomma e di promozione della qualità del servizio idrico le do subito la parola dottor Bardelli più che altro anche cercando di chiederle quello che le volevo un po' chiedere ovviamente voi monitorate questo servizio da tempo ma quali dati di questo rapporto di cittadinanza attiva e anche della consultazione civica l'hanno stupita di più anche proprio in paragone a quelle che sono le vostre rilevazioni diciamo che lo stupore non è la sensazione che mi è pervaso dall'inizio perché casomai la diciamo forse un po' di malinconia per il permanere di questi divari territoriali e come sapete la Torre Cassi che ha anche da tempo e che trova perfettamente riscontro nella presentazione che ha ottimamente svolto la dottoressa Toto su un passaggio in particolare ci terrei a sottolinearlo che riguarda la misurazione delle perdite su cui siete tornate più riprese e su cui devo dire l'autorità ha svolto un'azione mirata che va avanti da tempo che risale se vi ricordate all'elettricità idriche dell'anno 2017 dove non si citava ha portato a fare se vi ricordo anche una commissione parlamentare di inchiesta per verificare le pubblicità di approvvigionamento oggi abbiamo un commissario straordinario sullo stesso tema quindi è chiaro che il fenomeno ormai è straordinario se volete per la portata e per i rischi che comporta ma non per elementi legati alla sua prevedibilità quindi già là avevamo svolto un'azione mirata e noi abbiamo pubblicato i dati sulle perdite idriche fino al 2021 che sono reperibili sulla relazione annuale ci accingiamo a raccogliere quelli relativi al bienio 22 e 23 i nostri la nostra definizione di perdite idriche e lo sviluppo nel tempo dell'indicatore ad essi associati è alla base è alla base delle milestone che il governo ha inserito nell'ambito del PNRE perché sarà poi necessario e doveroso rendicontare la commissione europea affinché i fondi da questa assegnata al nostro paese siano stati diciamo proficuamente impiegati e sulla base di questi elementi sono state disegnate una serie di policy e di interventi di carattere regionale e locale volte a migliorare questi indicatori quindi da questo punto di vista io credo che data la complessità del tema e complessità che ci impone è di non cercare risposte eccessivamente semplici perché non sono risposte non sono tali quello che va fatto è per ogni territorio avere un presidio dell'infrastruttura che si gestisce serio credibile e questo lo si ha dove il territorio è oggetto di una gestione industriale professionale organizzata come addetti che sono specialisti del settore che conoscono appunto quel territorio che raccolgono i dati in modo compiuto che sono in grado di rendicontarlo in questo modo rendono i loro dati confrontabili con quelli raccolti dai loro colleghi e questo permette al nostro paese di fare dei ragionamenti su scala più ampia e di traguardare anche delle polisi di intervento dove questo non avviene ma l'intervento se volete nelle mani di uno storico artigianato che è diciamo ben orientato verso la comunità locale ma lontano da di standard professionali richiesti non abbiamo dati disponibili probabilmente l'acqua arriva sapporiamente e non si sa neppure bene dove intervenire perché manca una capacità di progettazione che è la prima leva da cui scatolisce la disponibilità delle risorse e su questo io ci tengo ad essere se volete anche noioso ma per me è essenziale noi abbiamo una capacità di intervento sui territori che deriva dalla capacità di progettazione che deriva dall'esistenza di un tessuto gestionale credibile abbiamo in altre realtà grandi fabbisogni ma che non si traducono nella capacità di progettazione perché non c'è la conoscenza dell'infrastruttura e queste realtà restano con i loro grandi fabbisogni non riescono ad essere destinatarie di interventi mirati che permettano di migliorare quelle infrastrutture la vicenda del PNDR ha enfatizzato questi elementi e credo che per certi versi potrebbe anche contribuire ahimè il nostro malgrado ad acuire tra alcuni di vari che probabilmente rimarranno se volete in qualche modo celati dal fatto che nelle realtà dove sia uno scarso presidio sia una grande fabbisogno non sia anche un monitoraggio dei dati così credibile che permetta poi un confronto fonduro però la sensazione è che se non si interviene su questo dato pre se volete investimento quindi prima di mettere in campo l'investimento serve un destinatario che dimostri di sapere cosa fare dove intervenire e in che tempi credibilmente riesce a impiegare quelle risorse questo è un passaggio a mio avviso essenziale e come diceva correttamente sia il presidente Vrandolini prima ma soprattutto l'onorevole Braga dopo è evidente che la capacità del territorio locale di esprimere un livello di governo e quindi una programmazione che si traduca in termini implementativi nelle modalità che vi dicevo è l'elemento essenziale noi oggi dov'è che abbiamo destinato le risorse noi il nostro paese dove ha destinato le risorse di investimento dove ha trovato quei contesti locali in cui la progettazione era credibile che il piano era credibile la situazione gestionale era ordinata in cui contesti alla leva tariffaria si è ben aggiunta e unita la disponibilità di fondi pubblici dove questo non è accaduto non si è riusciti ad innestare proficamente con la disponibilità di fondi pubblici e questo è il problema principale e credo che come è stato anche questo detto da Rondevole Praga sono stati fatti anche degli interventi anche in anni recenti per rafforzare la capacità di governo delle realtà più diciamo in difficoltà tanto che oggi abbiamo gestori che non esistevano due o tre anni fa probabilmente perché in alcune aree del paese senza far nomi che so io lo cito sempre ormai è quasi la mitica regione molise come sapete ha affidato la gestione del servizio integrato ad un operatore che da un punto di vista formale è integrato poi mi risulta che se è in corso un lavoro faticoso di relazione con il singolo ente locale lo sapete che in molise a memoria credo abbia 128 enti locali qualora questo operatore diventasse gestore unico noi ci troveremmo probabilmente con 128 gestori in meno di un colpo solo e probabilmente con un gestore unico in grado di operare interventi ed avere un presidio dell'infrastruttore gestito però sono processi che richiedono tempo quindi noi sappiamo che si è innestato che si è avviato non sappiamo quanto tempo impiegherà per arrivare al regime però questa è l'unica via a mio avviso credibile per rendere un territorio con il tempo che sarà necessario in grado di essere di avere quelle qualità organizzative che attraggano la spesa per investimenti che possa essere correttamente innestata rispetto ad un piano di sviluppo cariffale e questo è un po' quello che l'autorità ha cercato dall'inizio di promuovere e se consideriamo gli anni recenti della nostra esperienza regolatoria devo dire per esperienza vado a memoria i primi fondi che sono tornati sul settore idrico che pare che dati nel 2018 non è un caso che siano diciamo stati nuovamente prospettati nell'allora piano nazionale del settore idrico a valle di un percorso di riforma dello stesso settore che iniziava già a presentare delle qualità positive quindi essere candidabile elegibile rispetto a questo tipo di interventi quindi questa è la raccomandazione il suggerimento che darei che abbiamo dato più volte a quelle aree che hanno avuto questo tipo di difficoltà sì certo come ricordava non basta avere le risorse bisogna avere le capacità progettuali nel senso che anche laddove ci sono gli investimenti poi se non c'è la capacità il presidio come l'ha chiamato lei di mettere a terra poi certi progetti investimenti diventa chiaramente il gap non si colma le volevo solo fare una battuta anche per ricordare i dati legati alla tariffazione ovviamente la tariffa del servizio idrico sappiamo che è composta da tantissime voci abbiamo visto però appunto come ricordava anche l'onorevole Braga che manca consapevolezza anche sul bonus idrico in questo senso ci sono delle indicazioni delle semplificazioni possibili che l'autorità sta cercando anche nel sistema di fatturazione di promuovere Allora sulla parte bonus so che ci sono tutta una serie di sforzi in corso per rendere sempre più efficace lo strumento che passando a uno strumento automatico da quello che era diciamo invece un strumento attivabile su istanza del singolo utente ha portato ad una diffusione molto maggiore ora vado a memoria credo che il dato oggi si aggiri come popolazione interessata dai gestori che affluiscono con i loro dati i nostri sistemi informativi siamo all'ordine del 90% della popolazione quindi è molto migliorata rispetto alla situazione pregressa l'automatismo questo risolve tutto questo profilo risolve molto resta il tema che diceva sempre onorevole su modalità integrative che l'autorità ha previsto in quei territori che hanno risorse aggiuntive da gestinare e in quel caso molto rimesso alle campagne informative che gli stessi enti di governo che gli ambiti interessati gli osperi interessati mettono in campo quindi questo è un po' lasciato diciamo all'iniziativa dei simboli territori certo la ringrazio davvero insomma del suo quadro che ci ha appunto raccontato anche di quello che sta facendo l'autorità ricordava l'automatismo del buono sidrico che in effetti si è agganciato all'ISEE quindi nel momento in cui si ha un'ISEE sotto una certa soglia chiaramente scatta un automatismo per cui viene riconosciuta un'utenza possibile e quindi in teoria viene riconosciuto lo sconto in modo automatico quindi diciamo che è l'ISEE l'attivatore di questo bonus al momento grazie quindi insomma a Lorenzo Bardelli direttore della divisione ambiente di Arera ricordo perché prima quando mi si è frizzato il computer purtroppo non mi avete sentito ma subito dopo l'onorevole Braga ho ricordato che in realtà noi avevamo anche invitato l'onorevole Vanni Agava esponente della maggioranza ma che purtroppo non è riuscita ad essere qui con noi e neanche a mandare qualcuno quindi insomma diciamo che sarà per la prossima volta ma l'avevamo sicuramente invitata anche a discutere con noi di questi temi darei subito la parola quindi al prossimo relatore a Luca Lucentini direttore del Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque dell'Istituto Superiore di Sanità perché abbiamo detto appunto anche attraverso i numeri che ci sono dei cittadini che ancora non si fidano a bere l'acqua dal rubinetto e che questo dato aumenta laddove proprio magari si segnalano dei disturbi e dove manca quella fiducia da parte dei cittadini nella risorsa idrica anche nel servizio che la eroga e quindi siccome spettano a voi tutti quelli che sono i controlli sulla potabilità dell'acqua le volevo chiedere se questi dati riflettono poi davvero un tema di carenza di insomma di difficoltà insomma che emergono dai controlli questi rischi per la salute oppure no nel nostro paese grazie grazie molto e grazie anche a cittadinanza attiva per l'iniziativa perché diciamo gli spunti sono tanti e ovviamente confliggono col tempo a disposizione ma raccolgo subito la 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 richiesta allora è un po' contraddittoria la situazione sull'acqua vista dall'osservatorio diciamo un osservatorio sanitario che però molto spesso come dire fa convergere tante tanti altri aspetti per esempio per collegare alla governance a testè diciamo più volte richiamata ma insomma anche anche ultimamente dal dottor Bardelli siamo in una fase in cui forse come mai le iniziative dal punto di vista normativo ma anche proprio istituzionale sono attive e quindi certamente la qualità dell'acqua attestata anche dai controlli controlli più avanzati vogliamo dire nel resto d'Europa dove ad esempio una delle sostanze categorie più preoccupanti di sostanze come i composti perforo architici i famosi pass sono controllati da alcuni anni in Italia mentre in Europa lo saranno dal 2026 a fronte di tutto questo sforzo e questo assetto registriamo da una parte consentiteci dal punto di vista sanitario beffa di andare probabilmente in procedura di infrazione su deroghe per l'arsenico questioni che attengono prima del 1998 situazioni che per assetti gestionali su cui non entriamo nel Vitervese non vengono superate e quindi pagheremo dei costi in termini economici ma anche di immagine davvero davvero contraddittori rispetto agli sforzi fatti ma anche questa perdita parliamo di perdite idriche ma anche di perdite di fiducia che continuiamo a testare a fronte invece di una qualità che dal punto di vista formale supera di gran lunga il 99% di conformità rispetto ai dati di qualità che l'Europa richiede e che sono tra i più avanzati ma anche rispetto ai progressi diciamo di acqua proprio degli assetti dei controlli quindi dobbiamo però considerare alcuni aspetti secondo primo diciamo paese a consumare acqua in bottiglia lungi da noi diciamo creare o alimentare una addirittura contrapposizione tra le diverse acque le acque in bottiglia sono certamente diciamo dei beni pregevoli l'Italia è seconda solo la Germania nelle acque imbottigliate è l'unico paese europeo stato membro con vulcani attivi quindi ha una mineralogia assolutamente pregevole e di valore però ricordiamoci che le acque minerali naturali sono beni di consumo l'acqua potabile è un diritto universale dell'uomo stiamo parlando di due assetti completamente diversi non solo dal punto di vista dei costi ma anche se volete proprio dell'accesso è vero che consumiamo molta acqua minerale ma mi chiedo quando andiamo in un aeroporto e siamo in molti ad andarci con le famiglie in realtà o consumiamo acqua in bottiglia e ci passiamo tre o quattro ore a volte o consumiamo acqua in bottiglia prima e dopo i varchi oppure è difficile accedere all'acqua nonostante ci sia ora il decreto legislativo 18 del 2023 che impone dei conti di accesso all'acqua nelle stazioni negli aeroporti e negli stabilimenti balneari ecco a volte questa scelta non è è insomma da migliorare questa scelta e poi è da migliorare se consentite questo è un evento diciamo da non perdere per questo anche una serie di informazioni in termini di comunicazione regate per esempio al consumo dell'acqua l'acqua è un se volete è la risorsa circolare per eccellenza nasce come ciclo noi siamo riusciti a spezzettarlo nelle governance e nelle normative ma in realtà insomma dovremmo parlare come parliamo di One Health che ormai appartiene a tutti anche di One Water cioè la salute dell'acqua è una unica ma anche l'economia il panorama normativo che sta tutelando la salute dell'acqua finalmente ha messo mano alla madre di tutte le problematiche che è il trattamento delle acque elettive non a caso la direttiva era del 91 la più antica una delle direttive degli atti normativi più antiche ci sta anche quella dei fanghi ma insomma proprio perché il terreno era abbastanza complesso lì è stata finalmente possiamo dire introdotta la responsabilità del produttore cioè chi paga i costi oggi nelle regioni dove in cui la contaminazione dell'acqua per esempio l'Orippifas è più elevata questi elevatissimi costi vengono pagati dal consumatore dell'acqua potabile quindi in realtà proprio c'è lo stravolgimento di chi è inquinato paga mentre chi ha diciamo tratto profitto da quelle produzioni per un assetto diverso non 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 ha sostenuto i costi questa responsabilità del produttore è finalmente entrata nella direttiva acqua replue è qualcosa di cui si è parlato forse troppo volte perché apre diciamo tra l'altro la porta ad una serie di comportamenti virtuosi il riuso delle acque nel momento in cui le acque replue depurate e abbiamo veramente una sfida tra le più importanti ma addirittura andrà verso trattamenti guaternari quindi le acque rimesse nell'ambiente saranno di una qualità eccellente quindi andremo verso un un assetto appunto certamente certamente migliore voglio dire e concludo perché diciamo un'iniziativa importante sulle cooperazioni questa iniziativa è un importante diciamo piattaforma di scambi di informazioni non esistono ancora proprio in senso stabile devo dire che per esempio la collaborazione dell'istituto con Arera è certamente un assetto che ha valorizzato ha creato una sinergia istituzionale interessante che si è trasposta sui piani regionali ma anche su incentivi e penali di chi diciamo non cioè non favorendo non promuovendo la qualità dell'acqua da una parte ha per noi diciamo un aumentato rischio per la salute e dall'altra per il consumatore non svolge un servizio ottimo per cui comunque le sinergie ci sono ecco e l'Italia in queste partnership sta insegnando molto cioè molte volte diciamo i danni vengono vengono purtroppo da un da un insano partenariato cioè tutti mettono diciamo concorrono a causare dei danni per esempio ambientali e magari a gestirli male ecco il partenariato nella dissoluzione di questi se noi siamo abili a farlo nelle emergenze non lo facciamo in tempi di pace quindi c'è un'iniziativa parlamentare che sta ormai un disegno di legge che è nella fase finale che è la ratifica del protocollo atto e salute OMS Nazioni Unite che probabilmente come sanità ma dovremmo dire come paese auspichiamo perché metterà diciamo creerà un gruppo di lavoro stabile ma veramente molto funzionale non cartaceo ma che potrà stabilire degli obiettivi in tema di acqua salute ma non solo mettendo insieme tutti gli attori molto spesso c'è un piano in vasi che magari un gestore non conosce e quindi sta investendo in una direzione opposta o magari delle politiche delle normative sul riuso ma anche sull'impiego di acqua sicura per l'alimentazione delle fontane dei comuni che i comuni non ignorano del tutto e quindi vanno a oppure magari delle pratiche di installazione che possono contribuire a fornire risorse di cui non si ha conoscenza magari anche degli stessi fondi messi ecco avere un tavolo che semplicemente scambia tra le istituzioni e soprattutto comunica anche al terzo settore e alla cittadinanza queste informazioni e cosa si fa è un passo diciamo ad alico perché poi alla fine noi dell'acqua per finire non consumiamo in realtà l'acqua che abbiamo detto in ciclo consumiamo la sua qualità e quindi sapere dove questa qualità viene prodotta e come può essere gestita e quali danni può avere se manca è forse il tema principale quindi quantità e qualità vanno di pari passo grazie sì grazie ha detto tantissime cose che appunto in realtà al di là di questo ultimo protocollo di cui auspicchiamo insomma arrivi al traguardo a breve ha ricordato insomma che le normative esistono perché c'è sicuramente la normativa del 2023 che prevede l'accesso all'acqua di rubinetto all'acqua pubblica insomma nell'ambito di aeroporti e di locali pubblici insomma tutto quello che è i stabilimenti balneari quindi insomma la normativa lo prevede va implementata così come ha ricordato insomma che i controlli vengono fatti e attraverso insomma degli obblighi che sono anche internazionali direttive che prevedono insomma anche sempre più una governance maggiore da questo punto di vista ovviamente mi viene da dire e qui guardo un po' ai numeri che conosco più più nel dettaglio a volte il maggiore controllo porta a una maggiore presenza di certe segnalazioni quindi probabilmente c'è un riflesso anche di questo nei dati italiani cioè il fatto che il controllo laddove è maggiore poi determina anche una maggiore immersione di questi di questi dati che poi sono anche adesso non parliamo più di deroghe ma di interruzioni magari della potabilità dell'acqua su alcuni territori proprio perché c'è stato un controllo quindi magari è da vedere quasi positivamente laddove avvengono queste segnalazioni o no le chiedo questo dettaglio assolutamente sì ma infatti in termini di comunicazione abbiamo questa quando funziona la prevenzione o è silente oppure da qualche da qualche segnale che in realtà è proprio una limitazione dei rischi però potrebbe diventare diciamo controproducente si sta lavorando sempre più perché appunto non si avvenga restrizione che è comunque una misura di controllo ma è chiaramente l'estrema razio e invece questi anche queste diciamo prevenzioni siano silenti grazie grazie per averlo ricordato e soprattutto mi sembra di capire insomma che queste vostre segnalazioni anche il lavoro che fa l'Istituto Superiore di Sanità nell'ambito dei controlli dell'acqua è anche una necessità legata a cercare di dare maggiore consapevolezza e sicurezza al consumatore che possa poi orientare al meglio il suo comportamento ed è qui che mi viene insomma facile anche cercare di dare la parola al prossimo relatore che proprio ci racconterà come la anche la psicologia comportamentale insomma fa degli studi su il consumo idrico delle persone e come questo viene orientato cioè cos'è che orienta insomma il consumatore nelle sue scelte allora do la parola a Nicolao Bonini direttore del laboratorio di neuroscienze NC Lab dell'Università di Trento appunto neuroscienze del consumatore la ringrazio per essere qui con noi appunto abbiamo sentito tantissime statistiche che poi alla fine influenzano l'azione il comportamento dei cittadini nell'assumere acqua dal rubinetto piuttosto che scegliere la bottiglietta e quindi quali sono un po' gli elementi che possono in termini di psicologia comportamentale incidere in una maggiore tutela e conservazione della risorsa idrica da parte dei consumatori beh allora innanzitutto mi permette di ringraziare Cittadinanza Attiva sia per il gradito invito sia per questa interessante iniziativa il mio approccio è complementare rispetto la propria approccia l'approccio psicologico e delle scienze comportamentali è complementare rispetto diciamo a quello che abbiamo sentito raccontare stamani mi permette di raccontare un aneddoto un ingegnere una conferenza sul risparmio energetico quelle tematiche da un punto di vista psicologico che sono comuni riguardo risparmio energetico e quello idrico differenziava tra l'efficienza del prodotto e del servizio e l'efficienza della gestione del prodotto e del servizio noi possiamo avere gli elettrodomestici più efficienti di questo mondo diceva le lampadine più efficienti di questo mondo ma se a fronte di questa efficienza abbiamo che il consumatore lascia le luci accese la mattina e la sera esagera per far capire ecco che questa efficienza tecnologica viene in certo qual modo mangiata da un comportamento o una gestione inadeguata lo stesso discorso si può fare per il mondo acqua noi possiamo avere una rete e speriamo di avere al più presto efficientissima con un 0% di dispersione ma se dall'altra parte abbiamo il consumatore che lasciano il rubinetto aperto la mattina e la sera esagera evidentemente tutto questo viene controbilanciato negativamente cosa si può fare in termini di politiche pubbliche ambientali e la risposta tipica della politica è quella di far leva su incentivi disincentivi economici o strumenti di tipo normativo l'approccio psicologico più correttamente direi comportamentale che valsa con premio Nobel per l'economia Richard Thaler sfrutta sfrutta i meccanismi psicologici che non fanno leva ripeto su incentivazione economica e monetaria che non fanno leva su divieti ma sfrutta meccanismi psicologici al laboratorio di neuroscienze del consumatore tanto per fare un esempio in collaborazione con Alessia D'Origoni abbiamo svolto a proprio titolo esemplificativo uno studio sul campo in alcuni ristoranti volto a tramite tecniche psicologiche appungolare stimolare un comportamento percepito da molti consumatori come ecosostenibile cioè il consumo di acqua da rubinetto rispetto al consumo di acqua in bottiglia in realtà che abbiamo misurato in ristorante abbiamo misurato il comportamento del consumatore prevale fortissimamente il consumo di acqua in bottiglia così come emerge anche dall'indagine che la dottoressa Totto ha presentato stamattina noi abbiamo sfruttato una leva psicologica che fa riferimento a un comportamento altrui cosa abbiamo fatto a questi ristoranti abbiamo usato dei poster con la fotografia di acqua da rubinetto un bicchiere di acqua da rubinetto e con indicazioni cosa fanno gli altri gli altri in particolar modo un gruppo con cui le persone si possono identificare facilmente lo esperimento è stato sviluppo in trentino e quindi si dice sostanzialmente che due terzi di trentini usano acqua dalla caraffa acqua da rubinetto questa semplicissima costo zero tipica politiche comportamentali comportano dei costi irrisori in questo caso la stampa di 5 o 6 poster che tappezzavano la sala ristorante ha comportato un aumento quattro volte della richiesta della caraffa al posto della bottiglietta dell'acqua si passa attenzione da un 4% nella situazione base baseline quindi indica un stragrande desiderio dei consumatori in un luogo pubblico in un ristorante in cui stiamo parlando per l'acqua in bottiglia a un 16% può sembrare poco ma se facciamo un'analisi costo-beneficio il costo-irrisorio e il beneficio è una quadruplicazione di un comportamento desiderato che va per molti osservatori in una direzione di un comportamento sostenibile è appunto una esemplificazione di quello che può fare l'approccio psicologico in letteratura ci sono molti altri esempi adesso non ho il tempo per raccontarli ma mostrano come spesso la percezione del tempo può essere un elemento che fa sì che ci sia una maggiore quantità di consumo di acqua in doccia rispetto a quello che si potrebbe effettivamente usare utilizzando l'eleve psicologica sì mi viene da dire che serve la collaborazione dei soggetti degli esercenti in questo caso ma anche quello che è facile immaginare sono campagne di comunicazione sicuramente più pervasive cioè più capaci di arrivare al vicino ai consumatori è sicuramente importante capire che il consumo è orientato in qualche modo anche da una comunicazione efficace questo mi sembra di capire dai vostri studi giusto? sì in parte nel senso che queste tecniche psicologiche più che riferirsi a una comunicazione to cure semplice tipo pubblicità e progresso per intenderci tendono ad agire nel contesto in cui avviene la scelta quindi se sei al ristorante per esempio questa tecnica adesso la stiamo utilizzando in uno studio riguardo a un altro tipo di spreco che è lo spreco alimentare utilizzando la stessa tecnica vogliamo incentivare tra virgolette non in termini economici ma usando queste tecniche psicologiche a chiedere più frequentemente le doggy bag ci sono perché le persone non chiedono doggy bag perché le persone non chiedono l'acqua in caraffa ci sono diversi fattori un fattore può essere anche emozionale la gente si può vergognare perché non vuole apparire in un certo modo dare dei feedback precisi che dicono che non sei solo che il tuo gruppo di riferimento fa quella cosa può aiutare il consumatore a prendere decisioni a effettuare scelte che vanno in quella direzione di un comportamento dell'interesse e anche qui torna il tema della rete quindi del fare gruppo e del sentirsi parte di un gruppo che evidentemente va verso una direzione quindi l'importanza che anche poi riscuotono lo vedremo tra poco anche le comunità di da un lato penso alle comunità energetiche ma anche le comunità in questo caso di tutela dell'acqua dei giovani delle blue communities insomma grazie davvero a Nicolao Bonini per questo spaccato perché ricordiamo il consumo idrico è qualcosa che riguarda tutti noi quindi la percezione di un consumatore insomma sostenibile fa parte insomma di una consapevolezza che la psicologia stessa ci aiuta a capire come si può migliorare insomma anche quella che noi stessi abbiamo insomma rispetto alla risorsa acqua grazie davvero e niente do la parola a questo punto al prossimo relatore ricordiamo che noi stiamo parlando insomma di una risorsa quella dell'acqua che è all'interno di tantissime sfide legate alla sostenibilità ad esempio l'agenda 2030 dell'ONU porta al il sesto goals è proprio quello legato insomma all'acqua alla tutela della risorsa idrica e con questo do la parola proprio a Enrico Giovannini il confondatore direttore scientifico dell'alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile ASVIS che so benissimo avere tantissima tantissimo a cura i goals dell'agenda dell'ONU e quindi anche quelli legati all'acqua già ministro delle infrastrutture della mobilità sostenibile al tempo del governo Draghi allora io quello che le volevo chiedere ovviamente è nell'ambito di noi abbiamo scritto anche sul Sole 24 ore lo ricordavo prima ieri il commissario per l'emergenza idrica Nicola dell'acqua ha dichiarato che in attesa delle infrastrutture gli interventi più urgenti vanno fatti sulla prevenzione e quindi sulla liberazione degli invasi dai sedimenti e quindi anche su quelle che sono poi la possibilità di andare a compiere l'ultimo miglio di alcune opere che erano state insomma già programmate in anni precedenti ovviamente poi ci sono all'orizzonte tutti i piani di investimento c'è il PNRR ecco io quello che le volevo chiedere le infrastrutture legate alla rete idrica non è un cosa si è fatto e cosa manca però riusciamo a fare un punto su quali sono le caratteristiche le difficoltà che poi ha il territorio nella messa a terra di queste grandi sfide legate alle infrastrutturazioni della rete idrica grazie buongiorno buongiorno a tutte e a tutti grazie di questa opportunità e soprattutto complimenti per questa iniziativa con dati e punti di vista molto molto chiari e sì mi rimetto un attimo nel cappello di ex ministro responsabile anche degli investimenti sulla sulle infrastrutture idriche allora io per evitare ogni volta di ricominciare da capo vorrei ricordare tre punti primo punto una delle riforme del PMRR che è stata compiuta è quella di unificare la pianificazione degli invasi e la pianificazione delle reti idriche che erano separate e questo spiega gran parte dei problemi che conosciamo e che avete discusso semplicemente perché non c'era una pianificazione integrata è stato definito attraverso modifiche normative come deve essere fatta questa pianificazione e noi abbiamo avviato una serie di attività mi rivolgo anche ai colleghi che sono che hanno parlato o che sono non mi risulta che questo piano sia stato predisposto senza un piano integrato non si va da nessuna parte si torna a commettere gli errori del passato quindi lo dico anche alla stampa bisogna chiedere l'attuazione di quella normativa che era stata realizzata in anticipo dal punto di vista PNRR quindi l'obiettivo PNRR è stato raggiunto ma che poi deve diventare pianificazione e qui c'è una prima grande difficoltà e cioè il rapporto tra il ministero e le regioni perché le regioni hanno un'autorità importante su queste tematiche che lo dico senza fare polemiche dovesse passare il disegno di legge sulla autonomia differenziata aumenterebbero ancora di più perché oltre alla questione energetica oltre in parte alla questione ambientale passerebbero le infrastrutture i trasporti e così via lo dico perché la risorsa acqua ha una serie di caratteristiche locali ma in molti casi invece sono caratteristiche che superano i confini amministrativi pensiamo alla situazione del sud Basilicata Puglia Calabria solo per fare un esempio dunque questa pianificazione non è stata fatta e non si vede all'orizzonte bisogna capire perché questa pianificazione è ferma perché è così importante questa pianificazione beh perché nell'allegato infrastrutture e trasporti e mobilità di due anni fa quantificammo in circa se ricordo bene 12-13 miliardi gli investimenti necessari per mettere in sicurezza la rete idrica gli invasi e così via di questi grazie ai sei più o meno che sono stati stanziati durante il nostro governo più uno che si è aggiunto attraverso il fondo sviluppo e coesione giustamente perché c'erano dei progetti pronti per essere in qualche modo finanziati bene ce ne mancano ancora cinque e questo era basato sulla vecchia pianificazione separata nel frattempo forse non tutti se ne rendono conto i problemi del cambiamento climatico accelerano basta guardare l'assessment il risk assessment dell'agenzia europea per l'energia di qualche giorno fa in cui il messaggio è chiarissimo l'emergenza climatica sta accelerando le azioni di mitigazione e di anche adattamento non stanno muovendosi alla stessa velocità quindi questo è lo stato dell'arte poi il PNRR va attuato completamente poi c'è il piano nazionale complementare che come anche il Sole 24 ha ricordato è stato in parte smembrato non si capisce bene qual è la prospettiva ma quello che mi preoccupa è che non vedo a meno che io non mi sia perso qualcosa che nei contratti che vengono siglati tra il governo centrale e le regioni quelli firmati finora il tema idrico sia come dire al top al massimo delle priorità ripeto forse mi sono perso qualcosa ma poiché mancano le regioni del mezzogiorno ancora ed è comprensibile perché l'ottanta per cento del fondo sviluppo e coesione va al mezzogiorno beh se quei fondi non vengono destinati a integrare a coprire quello che quei sei sette miliardi finora stanziati possono coprire noi ricominceremo da capo e andremo avanti in tondo avendo perso un'occasione straordinaria dei fondi europei e nazionali da questo punto di vista mi faccio dire una cosa dottoressa Finizio perché l'ho detto anche recentemente presentando il mio libro sull'esperienza di governo ma chi te l'ha chiesto distanziare sei miliardi sull'idrico la risposta è nessuno cioè quello che voglio dire è che le forze politiche tutto l'arco nessuno ha detto questa è una priorità assoluta quindi caro ministro tecnico devi fare questa cosa perché altrimenti no è stata un'iniziativa del ministero stesso sulla base di tutta una serie di analisi ormai note quelle di CMCC e altri che la crisi idrica legata anche al cambiamento climatico può mettere in ginocchio pezzi interi del nostro sistema non parlo solo dell'agricoltura oltre che aggravare i problemi di approvvigionamento che sono stati ricordati in conclusione c'è ancora molto da fare certo c'è ancora molto da fare si può fare sì si può fare a patto che ci sia quella pianificazione prevista dal PNRR a patto che da quella pianificazione discendano ora decisioni coerenti e questo è tutto il discorso a monte compreso quello che le ricordava il commissario all'emergenza siccità perché il problema dello schiaiamento degli invasi è un problema che anche noi avevamo incontrato ho provato a risolvere insieme al Ministero dell'Ambiente con tutta una serie di problemi che non mi sembrano essere stati risolti finora a detta del commissario e i tempi sono sempre più stretti a parte quest'estate voglio dire parliamo degli anni futuri scusi ho dimenticato una cosa importante la governance non è soltanto tra Stato e Regione c'è il tema fondamentale del ruolo delle autorità di Bacino perché come abbiamo mostrato come Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile nelle settimane scorse anche nell'incontro fatto con il Ministro Musumeci noi oscilliamo tra mancanza di acqua ed eccesso di acqua e allora la pianificazione dal punto di vista integrato dell'approvvigionamento idrico ma anche della difesa del territorio di fronte a eventi climatici estremi come quello della Romagna richiede un ordinamento che oggi non c'è come dovrebbe essere tra Stato Regioni e autorità di Bacino che devono gestire simultaneamente i due aspetti compreso fare gli investimenti per evitare che i fiumi creino attraverso la tracimazione e quel po' di disastri che abbiamo visto e tutto quindi ancora in fieri questa è una buona notizia perché vuol dire che abbiamo spazi per migliorare ma bisogna procedere molto molto rapidamente Sì grazie appunto al professor Giovannini allora io le volevo solo chiedere una cosa su quello che ha detto perché ricordo anche che qualche giorno fa lo abbiamo anche scritto sul Sole24 noi parlavamo di dissesto idrogeologico e scrivevamo grazie appunto a un paper proprio dell'Asvis che andavano allineate le mappe di rischio insomma a livello idrogeologico insomma delle autorità di bacino insomma a quelle che sono le mappe di rischio a livello nazionale quindi questo aspetto ha a che fare con la programmazione e la pianificazione di cui lei ha parlato fino adesso insomma stamattina parlavamo molto della necessità di andare a strutturare a fare economia di scale sulle reti locali laddove ci sono gestori o realtà di gestione ancora non troppo strutturate per riuscire insomma anche a pianificare a strutturare il loro intervento sul territorio però lei ci sta dicendo manca anche proprio a monte cioè diciamo in testa tutta una pianificazione che dia a queste realtà del territorio degli indirizzi chiari insomma delle capacità di poi tradurre nella messa a terra una pianificazione coordinata a livello nazionale in questo in questo aspetto hanno un ruolo i territori hanno un ruolo le città hanno un ruolo insomma tutte quelle che sono le infrastrutturazioni locali so che come ASVIS avete a cuore anche il fatto di come viene tradotta poi a livello locale questa pianificazione c'è una maggiore esigenza proprio di rete anche tra i territori assolutamente sì con una battuta l'acqua è un fluido quindi ha bisogno di una gestione integrata tutti gli elementi che sono stati discussi nella presentazione della dottoressa Toto ma anche di economia comportamentale quindi grazie veramente agli interventi che ci sono stati ma noi rischiamo di cadere perché non consideriamo la risorsa acqua una risorsa vitale scusate il gioco di parole cioè senza acqua non andiamo da nessuna parte nulla e allora e allora nonostante tutto questo e soprattutto come dicevo prima ce lo dice anche appunto l'ultimo rapporto dell'Agenzia Europea dell'Ambiente noi andiamo da un accesso all'altro quindi eccesso di piogge e di fenomeni climatici estremi in abbondanza e poi invece in carenza beh non è che sia rocket science cioè scienza missilistica gestire tutto questo ma va considerato un approccio di sistema perché senza questo approccio di sistema avremo carenze eccessi e ci lamenteremo ogni volta del fatto che il destino cinico e baro ci manda di volta in volta delle cose estreme pensi alla questione di altri sistemi come sono quelli dei trasporti oppure quelli dell'energia abbiamo costruito tutta una serie di sistemi di compensazione e vasi comunicanti ma non solo e mi faccio qui fare un riferimento a come serve perché serve un pensiero integrato ero l'altro giorno l'altro giorno a discutere il piano nazionale integrato energia clima dove una delle possibili soluzioni per ridurre per esempio la discontinuità nel corso della giornata dell'energia rinnovabile è il meccanismo dei pompaggi cosa vuol dire i pompaggi vuol dire che io creo un circuito chiuso quando l'acqua esce dalla diga e fa girare le turbine dopodiché non è che la butto via ma la recupero la rimetto su e così ho una continuità maggiore di quelle turbine problema serio perché l'abbiamo visto negli ultimi due anni che il calo della pioggia che continuerà metterà in difficoltà una serie di bacini ma se andiamo in questa direzione che sembra una soluzione molto intelligente beh vuol dire che potremmo usare meno acqua per fare altro perché se continuiamo a tenerla lì è chiaro che per l'agricoltura oppure pensi l'esempio della regione Piemonte che in modo lungimirante quest'anno così mi sembra almeno da quello che io ho letto ha vietato l'uso sulle piste da sci dell'innevamento artificiale perché le sostanze chimiche con le quali si fa la neve artificiale una volta sciolta vanno a inquinare gli invasi e dunque quell'acqua che esce dagli invasi è meno pura è meno utilizzabile come vede è tutto veramente collegato è veramente tutto collegato e se le posso rubare 30 secondi ancora vorrei farvi vedere un grafico che a me ha colpito molto perché mostra esattamente i problemi che abbiamo davanti chiedo scusa avevo aperto il file ma eccolo qui eccolo qui dovreste vederlo ancora vediamo le risorse del computer quindi forse ha condiviso solo una una schermata forse se interrompe la esattamente gliela rimetto ecco questo grafico ha flussi lo vediamo questo grafico che mostra come le diversi i diversi rischi legati al clima impattano su le diverse essendo l'agenzia europea sulle diverse policy areas dell'Unione Europea e qui per esempio c'è tutto questo è il tema dei degli ecosistemi acquatici eccetera guardate quanta ramificazione ha questo fenomeno e se uno va in fondo a questo schema e trova in fondo anche il turismo appunto con l'esempio che ho fatto prima ecco noi abbiamo bisogno di assumere questo approccio e ahimè la ripartizione di competenze tra centro periferia comuni regioni enti locali non è proprio ottimale per cui questo ogni volta anche per il commissario come vede è il problema perché i commissari hanno una serie di compiti non è che sono dei deus ex macchina che possono risolvere tutto quanto e abbiamo bisogno dunque di affrontare seriamente questo tema perché il nostro assetto di ripartizione delle competenze non è adatto a un mondo come quello che sta accadendo e soprattutto ripeto dobbiamo evitare di rendere questo sistema ancora più complesso con una frammentazione di competenze che poi ogni volta invochiamo i commissari per risolverlo non va bene grazie grazie professor Giovannini grazie del del monito che ha fatto ma soprattutto dell'aver ricordato anche le pianificazioni che sono in corso anche la necessità di coordinare insomma quelle che sono poi i piani di investimento che abbiamo sul nostro territorio nazionale grazie per essere stato qui con noi a questo punto ha citato anche mi sembra alcuni casi locali interessanti come quelli per esempio del Piemonte ricordava sull'uso dell'innevamento artificiale quindi ci sono dei territori che si muovono ci sono dei territori che provano insomma anche a fare delle politiche di sostenibilità magari su scala più locale che però possono insegnare anche a livello nazionale quanto si può tutelare di più il nostro sistema idrico e la rete idrica ed è con questo che insomma direi di dare la parola direttamente a Udine quindi all'assessore all'ambiente energia orti urbani e contratti di fiume del comune di Udine Eleonora Meloni grazie assessore di essere qui con noi introduco brevemente il motivo per cui appunto Udine e lei rappresenta appunto questo territorio oggi è qui con noi perché vi presentate come la prima città certificata Blue Communities adesso ci spiegherà lei cosa vuol dire ricordo che Udine ha vinto anche l'ultima edizione della qualità della vita del Sole 24 Ore quindi evidentemente i temi legati alla sostenibilità sono all'ordine del giorno nella giunta e troviamo in qualche ambito anche legato all'acqua quindi una vostra progettualità di cui oggi ci parlate e ci raccontate mi faccia sapere esatto grazie mille intanto buongiorno a tutti permettetemi di ringraziare Cittadinanza Attiva per l'occasione quest'oggi di portare le attività che promuove il comune di Udine e permettetemi anche di ringraziare Marco Iob per la bella proposta che mi ha presentato insieme a lui tutti i partner che fanno parte di questa rete per promuovere le Blue Communities e Udine non poteva che accettare di buon grado questo tipo di iniziativa abbiamo tra le altre cose anche l'Università degli Studi di Udine che fa parte il coordinamento di Agenda 21 di cui Udine appunto è un socio membro è una abbiamo voluto cogliere anche l'occasione diciamo simbolica dell'imminente giornata mondiale dell'acqua proprio per farci promotori attivi di questo percorso le attività che vengono proposte nell'ambito di quelle che potrebbero essere le iniziative di una Blue Community sono diciamo già insite nelle attività che il Comune di Udine svolge rispetto alle tematiche dell'ambiente dell'energia della salvaguardia mi piace pensare anche che vengono da lontano era ancora il 2011 quando abbiamo promosso l'istituzione della prima casetta dell'acqua a Udine e una delle prime in Friuli Venezia Giulia dai dati che emergevano questa mattina del rapporto c'è proprio il tema da un lato dell'abitudine che quindi anche questo ci deve far capire la direzione verso cui far partire le nostre campagne di promozione ma anche soprattutto quella che è invece la tematica dei dubbi della mancanza di sicurezza che possono avere alcuni cittadini rispetto alla nostra acqua del rubinetto e in questo anche il lavoro che fa il nostro ente gestore del servizio idrico integrato CAF che per quanto riguarda il nostro territorio raggruppa 122 comuni è un lavoro molto importante parliamo di quasi 5.400 chilometri di reti 189.000 utenze e soprattutto le attività di monitoraggio che sono molto importanti ecco anche tra le altre slide che venivano presentate c'è proprio forse la mancanza di informazione e questa sicuramente è una delle leve su cui una blue community quindi la nostra blue community che vogliamo far partire si proporrà si prefiggerà le attività nelle scuole sono già numerose svariate da parte sia di CEVI di CAF le attività che promuoviamo penso anche non solo nel settore dell'acqua ma anche nell'ambito dell'economia circolare dei rifiuti anche col nostro ente gestore sono numerose perché partendo dai più giovani noi riusciamo a far crescere questa coscienza a far capire il valore di questo nostro oro blu e a cercare appunto di aumentare sempre più i comportamenti virtuosi e ridurre invece quelli che sono gli sprechi come dicevo le casette dell'acqua hanno da un certo punto di vista l'impronta chiaramente legata al minor utilizzo delle bottigliette di plastica ma anche un impatto netto di CO2 che non viene immesso per la produzione stessa o per il trasporto delle bottigliette così come pensiamo anche all'impatto economico per una famiglia che non è da poco veniva evidenzato anche prima sempre nelle slide quindi sono tutti i percorsi su cui come comune di Udine intendiamo fortemente andare avanti oltre a penso a promuovere anche l'installazione oltre delle casette dell'acqua come dicevo che sono già dislocate in giro per la città ma anche sui comuni diciamo asserviti penso anche alla presenza di questi erogatori dentro le scuole perché prima sempre nelle slide si parlava del fatto che uno non si porti dietro la borraccia perché tante volte o non ha la borsetta o comunque non è un'abitudine ecco invece a scuola è oramai un qualcosa di pressoché quotidiano e quindi investire di più forse in questo tipo di erogatori perché comunque di borraccia ce ne regalano in molte occasioni ne abbiamo di diverse ecco può aiutare ancora di più a far capire che l'acqua è un bene comune da salvaguardare che l'acqua del rubinetto per di più anche microfiltrata con tutti i monitoraggi è ancora più buona tra le altre azioni che un'amministrazione comunale può e su questo noi ci stiamo impegnando si parlava prima anche dei cambiamenti climatici penso al tema del drenaggio urbano sostenibile quindi mettere in campo azioni di questo tipo nell'ottica della prevenzione della manutenzione e così come come diceva prima il professor Giovannini riprendendo il discorso dei cambiamenti climatici e questa è una anche delle delle mie deleghe che lei prima ha letto è il tema dei contratti di fiume perché i contratti di fiume sono un'attività non nuova però diciamo che stanno sviluppandosi sempre più in questi anni e che rappresentano uno strumento strategico nelle mani delle amministrazioni comunali perché si mettono in rete ma soprattutto rappresentano un patto con i cittadini perché partono dal basso e più delle volte sono associazioni di volontari che vogliono tutelare i propri corsi d'acqua ecco perché noi oggi parliamo dell'acqua in questo caso magari parliamo dell'acqua che beviamo quindi facendo il classico gesto di aprire un rubinetto però l'acqua viene da ben più in alto e scorre quindi tutto quello che passa attraverso i fiumi poi finisce nei mari a Udine abbiamo anche posizionato una scritta sui tombini che dice il mare parte da qui comincia qui proprio dai tombini quante volte vediamo che vengono buttati i mozziconi di sigaretta oppure dentro le case che si usa ancora purtroppo fare quella cosa bruttissima che è versare l'olio dei barattolini ecco sono tutti comportamenti che vanno a nuocere in maniera in talunni case anche irreversibile ma comunque drammatica non solo i nostri mari ma penso anche alle condutture alle reti parlavamo quindi prima e mi avvio alla conclusione di quelli che sono anche gli interventi che possono e devono essere fatti per ridurre soprattutto le dispersioni idriche abbiamo visto che ci sono divari importanti tra nord e sud adesso prende in esame il nostro territorio e abbiamo una condizione abbastanza non così non drammatica rispetto agli altri dati per quanto lo sia perché ogni goccia d'acqua che viene dispersa purtroppo è una goccia d'acqua che altri non ricevono ma su questo la rete di impresa di tutti i servizi dei gestori idrici della nostra regione e del Veneto orientale hanno messo in campo questo progetto smart water proprio per ridurre le dispersioni idriche è un progetto che si avvale di fondi del PNRR quindi 37 milioni di fondi dal PNRR su un totale di 47 milioni di interventi proprio per andare a ridurre l'obiettivo è l'11% queste dispersioni attraverso la digitalizzazione il monitoraggio il posizionamento di smart meter ecco il tema dell'acqua è il più caro che abbiamo su cui siamo tutti quanti molto investiti e per questo la città di Udine si propone a far sì che si apra questa via anche sul nostro territorio italiano quindi io vi ringrazio della disponibilità e buon lavoro a tutti quanti e tutti gli interventi sono stati davvero molto importanti ed edificanti perché aiutano anche occasioni di questo tipo a far capire cosa può fare un'amministrazione e il rapporto che deve essere sempre più stretto con le associazioni che promuovono queste attività il comune può essere così come l'ente pubblico in generale un fautore può fare le attività di aiuto non può fare chiaramente tutto da solo e deve essere al fianco delle associazioni dei cittadini quindi grazie mille grazie grazie all'assessore appunto Eleonora Meloni dell'ambiente energie orti urbani ai contratti di fiume del comune di Udine mi viene da fare una battuta visto che ci ha raccontato appunto che Udine ha scelto di mettere la scritta il mare parte da qui sui tombini mi piacerebbe sapere cosa ne pensa appunto il psicologia comportamentale Nicolao che abbiamo sentito prima perché quello è sicuramente un'indicazione importante che Bonini appunto potrebbe dirci se disincentiva un messaggio del genere direttamente l'utente che passeggia sul territorio quindi tornano i temi della mattinata anche in questa indicazione che il comune di Udine ha voluto dare ai suoi cittadini cercando di muoverli verso un'azione più sostenibile quindi non buttare il mozzicone o insomma ridurre questo tipo di comportamenti a questo punto abbiamo raccontato della realtà certificata Blue Communities del comune di Udine e do la parola a Marco Iob del centro di volontariato internazionale capofila del progetto Blue Communities quindi i giovani promotori di comunità a difesa dell'acqua che per chiudere questa mattinata ci racconta proprio nel dettaglio il progetto e magari riassume quello che è stato detto stamattina quanto è rilevante per il vostro insomma progetto Un saluto a tutte e a tutti certo a me è largo compito di concludere questo interessante incontro diciamo impossibile da sintetizzare per la numerosità e gli importanti stimoli che sono giunti i primi naturalmente dal rapporto che è stato presentato ma poi dagli interventi che sono succeduti io direi potrei in qualche modo sintetizzare anche dire come si come si interseca il progetto del Blue Community con tutto ciò che abbiamo detto stamattina allora innanzitutto io direi che è emerso un elemento molto chiaro stamattina che il ciclo idrico integrato e quindi il sistema che porta l'acqua alle nostre case e poi il sistema che la depura e la rimette nella natura è un sistema che non è isolato ma è un sistema introdotto in un ambiente specifico diverso l'uno dall'altro quindi può essere un ambiente montano può essere un ambiente di pianura o un ambiente completamente diverso l'uno dall'altro e che è influito da ciò e pertanto ogni contesto ha delle sue specificità e anche il ciclo idrico integrato non è quindi in qualche cosa che va preso a sé stante ma deve rientrare come è stato più volte sottolineato in questa pianificazione integrata perché l'acqua è un fluido e penetra e scorre in tutti questi sistemi quindi dico questo perché a fronte diciamo di dello stress in cui la risorsa idrica l'acqua è sottoposta e quindi uno stress dovuto al cambiamento climatico dovuto a un aumento dei prelievi è uno stress che riguarda in modo integrato tutto tutto il sistema diciamo naturale e non naturale dell'acqua e abbiamo visto che può mettere a rischio la disponibilità d'acqua potabile nei nostri servizi diversi integrati e questo è un dato mi sembra che sia emerso che emerge probabilmente dai dati che abbiamo a disposizione ma anche da da ciò che abbiamo sentito oggi e quindi il piano di investimenti di infrastruttura per l'acqua noi questo lo diciamo da anni da anni forse da decenni dovrebbe essere il primo piano di investimento o comunque tra i piani prioritari di investimento di un paese come l'Italia cosa che purtroppo vediamo fatica diciamo ad emergere come priorità e come è stato rilevato detto questo a fronte di iniziative pianificatorie nazionali di regie nazionali il progetto Blue Community si concentra molto sulla importanza dei territori anche questo è stato rilevato da molti relatori di come i territori per la loro diversità siano determinanti proprio nel gestire bene l'acqua ecco il progetto Blue Community è un progetto appunto comunità blu ma comunità blu in che senso nel senso di vogliamo promuovere comunità che si prendono cura dell'acqua si prendono cura di questo bene comune che abbiamo di questo diritto umano riconosciuto di cui è indispensabile prendersi cura prendersi cura abbiamo oggi emerso in modo chiaro che per la gravità dei problemi che abbiamo ormai di fronte a noi e l'urgenza con cui vanno affrontati riuscire a farlo mobilitando sinergie e cooperazione è una chiave fondamentale e in questa direzione va la proposta delle blu community cioè uno strumento che nasce come abbiamo sentito anche dall'introduzione nasce dalla società civile ma è ma coinvolge le istituzioni locali vuole coinvolgere tutti i soggetti che a livello territoriale hanno a che fare con l'acqua ecco pertanto il coinvolgimento delle istituzioni locali dei gestori dell'acqua dei consorzi di bonifica dove ci sono delle scuole delle scuole delle università delle associazioni del terzo settore delle associazioni ambientaliste delle associazioni culturali e dell'associazione dei consumatori e di tutti quei soggetti che adesso qui non è impossibile elencare che sul proprio territorio intendono proprio coinvolgersi o meglio vogliamo promuovere il coinvolgimento per prendersi cura dell'acqua ecco quindi il primo passo è quello di conoscere ciò che su quel territorio ciò che diciamo i problemi legati all'acqua ma anche le potenzialità che quel territorio ha riguardo all'acqua e prendersene cura cioè identificare quali sono le principali leve su cui puntare per migliorare le criticità che ci sono e attraverso un processo partecipativo un processo inclusivo che riesca a mettere in moto conoscenze a mettere in moto saperi anche quindi nuove conoscenze innovazioni ma anche i saperi tradizionali per riuscire ad affrontare in modo risolutivo i problemi legati all'acqua non è una nuova struttura perché i componenti diciamo delle blue community si prendono degli impegni in funzione del loro ruolo delle loro possibilità ma lo prendono in sinergia con un progetto comune ecco questo secondo noi diciamo è un modo uno strumento nuovo per riuscire a dare risposte che abbiamo sentito anche dai nostri relatori non possono essere risorse eccessivamente semplici perché i problemi sono complessi da parte di soggetti che conoscono il proprio territorio e che quindi sanno identificare sia hanno contezza sia delle conoscenze ma sanno identificare anche i problemi in modo tale da mobilitare le migliori conoscenze le migliori risorse che ne abbiamo su quel territorio ecco quindi il processo delle blue community noi abbiamo anche delle abbiamo elaborato delle linee guida che qui non presento ma abbiamo elaborato dei rapporti delle linee guida per guidare territori proprio nella formazione di queste comunità che vogliono prendersi cura dell'acqua ecco noi crediamo che questo sia uno strumento diciamo uno strumento noi proponiamo questo strumento nuovo uno strumento di mobilitazione uno strumento dove il territorio venga coinvolto in decisioni importanti e decisioni che hanno a che fare anche con ciò che abbiamo detto oggi anche con decisioni che sembrano lontane dai territori ma non lo sono per esempio sono state citate più volte l'aggregazione dei gestori ma noi vorremmo mettere l'accento sull'importanza che l'aggregazione dei gestori è importante e venga fatta proprio con un'attenzione al territorio quindi non solo con il consenso del territorio ma con l'organizzazione territoriale con la conformazione territoriale che quel territorio ha e quindi la centralità al territorio ecco questa è la proposta noi oggi abbiamo sentito l'annuncio che il comune di Udino appunto si è candidato ad essere di fatto la prima Blue Community in Italia ricordo che ce n'è molte altre in Europa c'è una rete di Blue Community in Europa di cui fanno parte anche città territori piccoli comunità piccole ma anche città importanti ne cito solo alcune ad esempio la città di Parigi è stata riconosciuta formalmente come una Blue Community per le scelte di ripubblicizzazione dell'acqua molto importanti che ha fatto qualche anno fa e quindi con un ritorno alla gestione pubblica dell'acqua nella città di Parigi ma anche la città di Bruxelles è stata riconosciuta come una Blue Community la città di Berlino proprio anche per anch'essa per un percorso di ripubblicizzazione molto complesso che ha scelto di fare ma anche piccoli territori ribadisco quindi comunità più limitate comunità di diversa di diversa origine e di diversa appartenenza territoriale noi pensiamo che questo sia uno strumento che possa mobilitare energie e risorse che servono per affrontare questi problemi molto importanti ed epocali che abbiamo di fronte ecco io penso concludo lascio diciamo per la parola per i saluti finali grazie grazie davvero allora l'auspicio devo dire a questo punto è che adesso arriveremo al ventesimo rapporto sul servizio idrico integrato l'anno prossimo l'auspicio è che potremo festeggiare l'anniversario del ventesimo rapporto dei cittadini magari con tante blocchioni che iniziano a nascere sul territorio anche proprio per mobilitare come ha detto lo stesso Marco Job le istituzioni a muoversi e a far sì che la tutela della risorsa idrica venga messa al centro insomma su quello che è poi il territorio ma questo lo faremo anche noi come media a livello nazionale cercheremo di avere anche le risposte su quelle che sono le pianificazioni nazionali che ancora vanno messe in atto e grazie ancora a tutti i relatori per essere stati con noi e aver affrontato davvero tantissimi aspetti legati a questa risorsa all'acqua appunto che stamattina abbiamo capito coinvolgono il consumatore quindi i privati cittadini ma coinvolgono le istituzioni allo stesso tempo e tantissime realtà sul territorio quindi siamo tutti chiamati insomma in questa grande sfida della tutela della risorsa idrica ringrazio ancora Cittadinanza Attiva per aver messo al centro il tema oggi ricordo che tutti i materiali saranno e sono disponibili sul sito internet di Cittadinanza Attiva per scaricare i dati comprese insomma le nostre slide con tutte le illustrazioni della mattinata che riassumono quello che è stato affrontato e detto dai nostri relatori grazie ancora e alla prossima occasione e a presto buona giornata grazie a tutti 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 grazie a tutti